Considerando le linee cinematografiche più popolari da alcuni anni nel cinema americano contemporaneo, volevo chiedere se lui si considera, al momento che certamente non può essere assimilato a queste linee generali, importanti, emergenti talvolta, se lui si considera un regista in qualche misura controcorrente? You know, somebody said, I don't know who it was, we don't know who invented water, but we know it was not a fish, is it not possible? Allora, qualcuno ha detto, non so per chi, non sappiamo chi ha inventato l'acqua, ma non sicuramente un pesce. It's very, very difficult for me to try to be objective in analyzing myself because I don't have a sort of theoretical approach to the work. I do the work and then I learn what it is after the fact. I don't know if I'm a filmmaker against me or not, I do know that the kinds of films that I make are more and more difficult to make with the economics of today and the fact that the audiences have gotten younger and younger and younger and younger. So, it's a little bit more difficult for me to do the kinds of films that I used to do. So, I know that I've had people who have said that I'm… People have said… people who see the films often… say that there's a bit of a European sensibility in the pictures. But I didn't, again, this is not something I did on purpose or consciously. I just… I make the films and then… and then I read in the paper what they think of them. and… but it's been… but I have been told that it's… that there's a slight European sensibility to the films. Well, you know, for me it's very interesting to work with other directors because directors do not have an opportunity to watch other directors. We… I see many actors. The actors see many directors. They see many actors. But a director never gets to see another director. So, you don't know if you're doing it right. You don't know how you're working sometimes. And it's very, very interesting to watch another director work. So, for me it was fascinating to watch Woody Allen or Stanley Kubrick or Robert Altman or any of these other directors that I've worked with. I think it was a bit of a bit more of a a bit. It's a bit of a particularly interesting bit of the work that is to probably see a better work. I think it's always a bit of a bit of a lot of help. The next one is that they still look at it. It's already a bit of a lot of like old artists and other artists. I think that's the only thing that they're doing... I don't see him in my head. I think that it's been the best. So, for me it's also an opinion. A lot of reasons. After that, I think I think it's a great thing you can use someone to come out. So, it was very interesting to all of us. It's a really interesting job to work with a all of our artists. Well, all of the movies that I've made have been movies that I wanted to make. I mean, I, again, I don't try to analyze them in any way and say, this is a, you know, this is a political film or this is not a political film. I understand that for you it may be so, but for me, I really look at the world of the film and at the people in the film and I try to decide if I want to wake up every morning for the next year and live with those people in my head. If I want to eat dinner with them every day, because it's what I do. If I want them in my head at night before I go to sleep. And do I care about the world that they live in? And does it matter to me if they have a problem or how to solve the problem? But I don't try to sit back and analyze and say this is, this is politically against the grain or this is not politically against the grain. You know, it's why I've made films in very different genres. Because I just, you know, sometimes the films are more political and sometimes less. Just so. Okay, in this course, it's a little bit of what we said before. So, it's very difficult for me to judge objectively about this kind of thing. It's about distinctions, whether it's a film of denuncia or a film of denuncia, which more than anything makes the public. What I do is look at the whole world, the whole universe, the whole universe that regards the film and the people that I compose, the actors, and decide if I want to wake up for an hour or for a period of time very long with these actors, with these people in my head, with all the thoughts that regard the context of the film in my head. If I want to eat with them, if I want to interest them I think primarily, for me, it's a way to learn. It's a way to go to school about human beings. Most of the films that I've made are in some way arguments between two or more ways of looking at the world. And if I try to be fair, that is, if I try not to make one argument better than the other, if I truly try to let the people argue as well as they can, I always learn something. I think all of the other reasons are a part of it. You know, we all know what real life is, and we all want something more, a little bit more than real life. Something which is better than real life. Something perhaps which is an alternative to real life. So that's why. No, 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 no. I'm a race driver. I can be anything that I might not ever have an opportunity to be in real life. So, in that sense, it's a little bit like a selfish danger, in a way. Si tratta in un certo senso di una specie di sogno ad occhi aperti davvero egoista, ovvero la possibilità di moltiplicare la propria vita e di entrare nei panni di un uomo, di una donna, di un anziano, di un chirurgo, di un lottatore, di un autista di Formula 1. Quindi, tutte le possibilità che in una sola vita non avrei mai. I can fall in love with beautiful women. I can win the beautiful princess. You know, I can do all of these things that are a kind of daydream that we all have. So, appunto, anche tra degli esempi, innamorarmi di donne bellissime di principesse, posso quindi continuare a sognare ad occhi aperti e realizzare questo sogno ad occhi aperti un po' quello che facciamo tutti in fondo. e di una chiusura di condizziare questo, che ho visto in 1982, in un'intervergo, che vedi a un po' whati delle cose non potrebbero essere... E di un po' quello che si tratta da una scuola di comodità in un po' quello che si tratta da woodenza, perché c'è un po' quello che si tratta da scegliere il fatto dei altri mornamenti. In a drama, the width of the bullseye is very big. You can play a scene, a dramatic scene. Let's suppose it's a scene where you find out deeply depressing news. You can laugh. You can kill yourself. You can cry. You can do nothing. It could all work. If it's a comedy, there's only one choice that's the best choice. So I say that it's a much more narrow range of choices of what makes the comic moment. Somebody said, I don't know if it was W.C. Fields, but somebody said, dying is easy, comedy is hard. You know, it's the most difficult form. Okay. comedy is more musical. It's like music. If you hit a note wrong, you can tell it right away. It's not possible. It's just wrong. And that's what happens in comedy. In a drama, you know, you can do it a little bit different. It's not, maybe it's not as good, but it's acceptable. You can play it with more variety, more different ways, I think. Well, it's probably true. It may be true in editing, but it's more true in the play. What I mean is you can't, even in editing, you can't fix it if it's played wrong. That's all I mean. Yes, there's a way to edit where you can say to the editor, you're way too slow in getting to the joke. So it's, the editing is more a question of timing only, because that's all you can change, is the rhythm of it. But in the playing, you can change everything, you know. So, this is true for both sides. In recitation, you know, it's a good tone, in a certain sense. In a certain sense, you know, the right tone of the play, in a certain sense. In terms of the music that obviously is a very important role, because it's a rhythm of the play, so the play must arrive in a certain time, not too late. So, it's two different levels. Well, I did seven films with Redford I've done more films with Redford than any other actor He's the actor I've worked with most often But in all of those films He has been in some way A version of the same man It's a man I've been interested in all my life That particular man that I was describing before Who is very much of an individual Who tries to exist outside of a structure Whether it's Jeremiah Johnson Or whether it's out of Africa Or whether it's the way we were Or whether it's Havana It's in a way the man who wants to remain completely independent Who finds that he cannot He can't have what he wants Without giving up something of himself in some way So in that sense, yes There's a similarity in the characters that Redford played But I think, for example The performance that he gave in Jeremiah Johnson Is a completely different performance Than the performance he gave in Havana Or in The Way We Were, let's say Ok, I've generato 7 films con Robert Redford Quindi ovviamente In un certo senso ha influenzato i miei film In quanto Il personaggio che Robert Redford ha incarnato In questi film In un certo senso Rappresenta diverse versioni dello stesso uomo Quindi un individuo Che cerca di esistere Al di là dei vari generi Che gli sono stati costruiti attorno Un uomo che cerca di essere indipendente Dalle situazioni che gli vengono imposte E che in un certo senso In tutti questi film Non riesce ad avere pienamente Quello che vuole Tuttavia credo che Quindi in questo senso Si esistono delle somiglianze Tuttavia ritengo che Ad esempio l'interpretazione Che Robert Redford ha dato In Corpo Rosso Non avrei il mio scalpo Si differenzia molto Da quella di Havana O di come eravamo But here's where you're absolutely right He When I was doing Out of Africa I didn't think of Redford He called me And he said on the phone Come on I can play this part And I said No You can't play this part Because Because this guy was English And he said Well I can do an English accent And I laughed I said Nobody will believe you With an English accent Because they're just going to say They're not going to believe you So he said Okay I'll do a screen test And this is after he was already a big star So I got an actress named Jane Seymour Who was a I couldn't I had not cast Meryl Streep So I got Jane Seymour And we did a screen test And Redford spoke With an English accent And it was hilarious I laughed I just laughed I said Everybody in the world Will say Oh there's Robert Redford With an English accent They won't say This is the Dennis Mitch Hatton character So I had to go back I did cast him In the park obviously But I didn't let him Do an English accent In that sense You're right I mean Dustin Hoffman They would let him do an accent Pacino They would let him Do an accent Just as they will let Meryl Streep Do an accent But I don't think Julia Roberts If Julia Roberts Tried to play a Swedish accent He would laugh So it's true There are some actors Who are Whose personalities Are so clear To the audience Like Cary Grant As you said That they will only Be accepted As long as they seem True to who they are In the audience's mind They won't let you Be a Robert De Niro Is like a chameleon He'll be something else Something else Something else They won't They don't want that From Redford They want some movement But they still want Redford At heart In some way Ma anche dove Dove lei in un certo senso ha ragione Quando stavo realizzando La mia africa E ancora non avevo Non avevo scelto gli attori Redford mi ha chiamato Mi ha detto Voglio fare questa parte E io ho detto No Non puoi Non puoi fare questa parte Perché il protagonista Ha finciato a me Un inglese E lui mi ha detto Allora reciterò con un accento inglese E io ho riso E lui ho detto Non saresti assolutamente credibile Allora è venuto da me Quando già era molto famoso E abbiamo fatto un provino E Redford ha recitato Un accento inglese E io ho riso Fultissimo Perché era veramente Era veramente Buffo E in questo senso Appunto lei ha ragione Perché esistono degli attori Che possono in un certo senso Adattarsi a diverse parti Da essere un po' Dei camaleonti Ad esempio Manny Streep Che all'epoca Non avevo ancora Scritturato Per il film Del film Ha recitato Un accento svedese Ma ad esempio Julia Roberts Che probabilmente Non sarebbe altrettanto credibile Come esistono attori Come Dustin Hoffman O come Al Pacino O come De Niro A cui il pubblico In un certo senso Da cui il pubblico Si aspetta Un cambiamento radicale In vari parti Robert Redford Come Carrie Grant Che l'hai accettato prima Probabilmente Ha un tipo di personalità Così forte Che il pubblico Accetta delle variazioni Di interpretazione Ma non uno stravolgimento Di questo tipo Quindi Non so se non Dissabora Dette la cosa Um Well I You know It's hard for me To answer this question Because I I wasn't there I don't know The facts I mean You know There is nothing Democratic About Filmmaking It's I mean There are some Directors That you need To tell What they should And shouldn't do I mean There's Everybody Is not equal You know You know We think They are We say That Every director Should just Make whatever He wants But suppose The director Is not Such a great Director Let's suppose He's a director Who Has some Strengths And some Weaknesses You're Describing A situation Where I don't Really know What Happened So it's Difficult For me To It's Difficult For me To make A judgment If your Question Is If I Were Rodriguez Would I Do what They told Me To do Probably Not But I Don't Know What The Situation Was Really It's 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 What I Would It's A hypothetical Question It's Too You Know I Mean I It Would Be Irresponsible For Me To Answer The Question Because I Don't Know I Don't Know What The Argument Was About I Don't Really Understand What The Argument Was About Dunque Non esiste Niente Di Veramente Democratico Nel cinema Quindi Molto Spesso Si Pensa Che Tutti I Registri Siano In Un Certo Senso Sullo Stesso Piano Quindi Che Sia Giusto Lasciare Che Ogni Regista Faccia Esattamente Il Film Che Vuole Fare Ma Ammettiamo Che Ci Si Trova Una Situzione Un Po Diversa Quindi Magari Un Regista Abbia Dei Punto Di Forza Ma Anche Delle Debolezze Allora Mi Chiedo Se È Giusto Che Deba Fare Esattamente Il Film Che Vuole Per Quanto Riguarda La Questione Specifica Quindi Di Rodriguez Non Sapendo Esattamente In Contesto È Stata Formulata Quali Fosse Fatti È Loose Me È Terrible I Can't Watch When It Is Another Voice Coming Out Of The Mouth When I Watch It Ruins A Film For Me But I Think It Is Something You Get Used To I Mean If You Are Used To It You Do It All The Time And You Are Accustomed To It I Tell You I Don't Even I Don't Even Like To What We Call Which Is The Same Actor But Let's Suppose I Go With Two Outers And I Go To A Very Noisy Place By A River And The Sound Man Says To Me We Won't Be Able To Use The Dialogue Then I Will Move To Another Location Because I Don't Even Want The Right Person To Put The Voice In The Mouth When It's Another Person And It's Another Language It's Impossible To Me I Mean I Just Think I Can't Watch A Movie I Can If I Have To But I Don't I Don't Like It But That's Scene It's 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 Awful I Was On The Telephone Yesterday With What's The Hollywood Partner And I Heard Me My Voice In Italian Somebody Said It I Thought It Was Crazy Sounded Crazy It Was A Scene From Eyes Wide Shut But The Guy That Was Playing Tom Cruz He Sounded A Little Bit Like Tom Cruz But I Sounded Like This You Know He Talked Like This And I Can't Feel He Talked And I Just And I Like Wow My God Doesn't Sound Like Me At All Quite Strange Sì Ma Questa Emozione Comunque Non Si Perde Comunque No Cioè Dovendo Leggere Sottotitoli No No Sottotitoli Yes Yes Sometimes But I Would Much Rather I Would Much Rather Read The Subtitles It Just It Doesn't Mean I Write It Just Means You You Know What I'm Used To What I'm Accustomed To I Am Very Accustomed To Watching Italian Or French Or You Know Whatever Movies With A Subtitle I Don't I Don't Like It You Know It's Difficult But I Can Do It But When I Hear Another Voice That's Not The Real Actor It's Hard To Appreciate The Acting In The Scene Because Because All You're Seeing Is The Face You You're Not It's Not It's Two Pieces It's Two Separate Pieces It's Somebody Who Put The Voice Into Somebody Else's Mouth Feels Awkward It Doesn't Feel Real To Me But I Like Italy So Much I Spor If I Lived Here I Would Get Used To It If I Came Here To Live For A Year I Would Watch Italian Movies And There Would Be No Problem Credo si tratti Soprattutto Di un'opzione Culturale Soprattutto Di essere Abituati A questo Tipo Di soluzioni Comunque Per me In un certo senso Sonsnatura Quello che è La recitazione La divide in due Perché comunque Si tratta Di la voce Di qualcun altro Sulla recitazione Sul viso Dell'attore originario A me non posso neanche Rigirare Le scene A volte succede Quando ci sono Le location Particolarmente Rumorose Succede di rigirare La scena Semplicemente La parte doppiata Con lo stesso attore Con l'attore originario E non mi piace neanche In quel caso Quindi Credo che Molta Molta Della recitazione Consista Comunque Nel trasferire O nel trasmettere Delle emozioni Molto dense E questo Probabilmente Con il doppiaggio In parte Viene perso Non dico Che sia giusto Ma io non sono Assolutamente Abituato Sono abituato A vedere film italiani Francesi Film stranieri Sottotitolati Certo Neanche quello Mi piace Molto Però riesco A seguire A seguire meglio Perché Il doppiaggio È appunto Un processo Che secondo me Toglie un po' La che è La completenza Della recitazione Proprio ieri Ho sentito Sui Valtrouparty La mia voce Doppiata Ma esorciata Mentre quella Di Tom Cruise Ci assomigliava In italiano La mia Era assolutamente Strano per me Sentire La mia voce Doppiata 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 è molto difficile per me dare una definizione di regista ci sono registi assolutamente opposti nel loro modo di lavorare come Kubrick è diverso da Woody Allen o da Altman il regista è letteralmente colui che racconta il film se si prende la stessa scena d'amore raccontata da ad esempio 5 registi diversi si avrà una gamma espressiva appunto molto differente quindi magari un regista porrà l'accento più sulla dolcezza sulla tenerezza o sul carattere erotico di questa scena d'amore Kubrick you mentioned the word dictator I don't know if he's a dictator but he's he he was um in control of everything of you know where the pencil is here 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 every you know he he wanted to control every single moment of a performance of a look and he he knew every he knew everything I mean the cameraman really was was just somebody to put lights where Stanley wanted the lights to be uh Stanley would choose the lens choose the lights he chose every bit of decor every painting he he did hundreds of takes he's old 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 I wouldn't call him a dictator uh but but I would say he's he he I mean for me it was a extraordinary experience to go from Woody Allen to Stanley Kubrick it was like going to Mars or something and going to Jupiter or something it's two two completely different planets I mean Woody Allen you know you want to go over there ok go wherever you want to go just do whatever you want to go and uh two takes and he goes home at four o'clock because he wants to eat early you know and uh he's done all the work in the writing Stanley Kubrick you do one take then you come and you sit down Cruise Tom Cruise myself and you watch the television monitor and it plays back the take and he stops every moment and he says see when you put your hand here don't do that ok and uh when you go for the stop when you go for the water here don't drink there go for the water with this hand and then hold it and then don't drink now drink and so on now you do another take and and then you might say no that was not good let's do another take you do another take ok the first question is the first question is the impact the impact the economic impact the realisation of a film mainly in the contemporary film and the second the second even if Sir Pollack has said that the director is not always the dream but if there is a director that he has a role that he has used to as a museum in a certain sense if he should choose one or 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 well the economics have changed films radically in the United States I don't know if that's true in Italy or France I'm sure it's had some impact but economics has been one of the primary reasons that films have changed so radically you know if it cost three million dollars to make Jeremiah Johnson it cost five million dollars to make the way we were it cost twenty five million dollars to make Tootson it cost thirty five million dollars to make out of Africa it cost fifty five million dollars to make the firm you have to slow down at this point and say it can be a major crisis if you make an unsuccessful film so it makes everyone particularly the studios much more cautious ok prima di tutto appunto il fattore economico è assolutamente uno dei una delle cause maggiori per il per il cambiamento che ha subito il cinema negli ultimi anni principalmente negli Stati Uniti non so se accada stessa cosa anche qui in Italia o in Francia ma credo di sì ed è uno dei motivi principali è una delle in un certo senso dei fattori principali da cui dipendono i film oggi ovviamente ci sono avuti 3 milioni di dollari per realizzare Genomia Johnson ovvero il nostro titolo Corvoros non avrei più scalpo 5 per realizzare come eravamo 25 per Tutsi 35 per la mia Africa e 55 per il socio quindi ovviamente come vedete si tratta proprio di un'escalation e è qualcosa che secondo me va un po' rallentato altrimenti forse si incorre in una e nel rischio di una crisi perché i costi stanno crescendo in maniera esorbitante One of the reasons I began to produce films instead of being just a director is I can go back to the beginning and take a first time director and make a film for 3 million dollars 4 million dollars 5 million dollars so I've produced a lot of first time films for today it's not so cheap but it's under 20 million dollars it's considered fairly inexpensive so the films I'm producing are all costing between let's say well the lowest was 5 million dollars and the most expensive maybe 20 of the producer this is one of the reasons I decided to do the producer in addition to the director to try to work with the directors in their work and keep the costs so usually it's about 3-5 million dollars but under 20 million dollars between 5-20 million dollars so today are considered relatively expensive as far as the directors that I might look back on and try to not so much compare myself to but say I think your question was was there one particular director who was a muse of mine who was an inspiration or who who I tried to model a career I didn't I never intended this but I'm sure that it happened that I that I I I was so caught up with films I saw as a child which were films of George Stevens and Fred Zinneman and Billy Wilder and Ilya Kazan and William Wyler and the sort of classical American directors I didn't pick one of them because I didn't know who they were I didn't know their names I just went to the movies but later when I learned about them if you said if you say movies to me I I think of the earliest films I saw I think of classical movies that I saw as a child so I think of those traditional American directors I don't I have inspired from a particular but when I have asked a question I think immediately that I inspired a book when I was movie classici americani, parlo di Zimmerman, parlo di Kazan, parlo di Vinnie Wilder, e mi viene in mente immediatamente la sensazione che ho provato quando ho visto questi film per la prima volta, quindi grandi classici americani, se dovessi dare una risposta. Ma in questo modo, non è così che voglio essere un'attore, ma non è così che voglio essere l'accia, ma che voglio andare a Casablanca, dove c'era molta fog, e voglio andare a guardare a un'attore, e parlare a un'attore, e parlare a un cazor, e parlare a un piazza, e parlare a a Claude Rains o qualcuno era questa cosa che ho risposto era un altro mondo che volevo più che incarnare gli attori come a me e ha detto non non let me shoot her e i said i can't do this movie i can't have to shoot her because it's the title of the movie i can't not shoot her but no i haven't ever i haven't ever had to i think the studio e il studio ha stato un po' preoccupato, e puoi sentire che potrebbero volerci cambiare qualcosa, ma non ho mai avuto capire con questo problema. Ho detto che devo assolutamente farlo, altrimenti non esiste il film in sé, quindi comunque in realtà non ho mai dovuto affrontare, scendere a compromessi. A volte ho avuto la sensazione che gli studios, quindi i produttori fossero un po' preoccupati, che volessero quasi cercare di suggerirmi dei cambiamenti, ma non l'hanno mai fatto in modo esplicito. Questa è la prima domanda. With casting, it's difficult. Sometimes, when I'm working with a writer, I can see somebody in my head, but I don't know who it is. And sometimes, I see an actor right away, as soon as I start to see one speech, I see an actor, and then I get stuck, absolutely stuck. But I have had it happen, where I thought only one actor in the world could play a part, and then I didn't get the actor, and then I changed everything, and got another actor. I mean, for example, I did a film in 1980, 1979 and 1980, called, I don't know what you call it here, but it was called Absence of Malice. It was about the newspaper business, and it was written for Al Pacino. As a matter of fact, his name was Michael Barbera. It was an Italian name. It was an Italian name. Because it was about a guy that they thought was involved with the mafia, who really wasn't. And he had a laundry. And I didn't get Al Pacino. And I was stuck. Now, we ended up with Paul Newman. You can't be more opposite. We changed his name to Michael Gallagher. We made him Irish. We put him in the liquor business. We still said they thought he was mafia, but was a whole... Now, how could I go, I don't know, how could I go from Al Pacino to Paul Newman? It's ridiculous, but you can sometimes. It's three very different parts of it. The writing is one big part, where I would sit and live all day with the writer, and try to imagine the world of it. But then, when I go to Japan, or to Africa, or to New York, or to wherever, and I go to the real place, with the real people, it changes. And I have to change what's been written sometimes. And then, sometimes, I'm not quite sure where I'm going. And then, when I'm in the editing room, it's like, uh, like sculpting. So, you can see the shape of it coming out, so it feels more thrilling, in a way, like it's coming alive on its own, in the editing, I think. Allora, diciamo che ci sono tre processi molto diversi tra loro. Il primo è quello di scrittura, appunto, molto spesso è una fase che io e lo sceneggiatore in questione ho anche, io da sola appunto cerco di immaginare questo mondo, cerco di calarmi in questo mondo, in questa vita fantastica che sto cercando di creare, ma quando poi mi sposo e vado nel luogo, mi regalo sul posto, come nel luogo reale, come in Giappone, l'Africa, o a New York, allora, in quel caso, a volte non so bene, mi accorgono che devo effettuare delle modifiche perché ho la sensazione che non so esattamente dove sto andando durante quella fase, ma è nella terza fase, quindi quella del montaggio, in cui sento proprio la sensazione che il film sta nascendo come una scultura, posso proprio percepire la creazione del film, il film che inizia ad assumere una vita indipendente. I have to make a confession, ok? Devo fare una confessione I didn't ever decide that I wanted to be a director Non l'avevo mai deciso Somebody else talked me into it And I always feel guilty about this I had an opportunity to do it, and I took the opportunity, and I don't know what the word is, I think I sort of grew into it. It's not what I wanted to do originally, you know. I wanted, when I was very, very young, to be an actor, but I was very unsuccessful. I didn't get any jobs. Now I get jobs, because I don't care, but I didn't get any jobs, so I would, I would, I had an opportunity to teach acting. So when I was 19 years old, I was an acting teacher in New York City, and because I spent a lot of time with some very, very good actors, I began to have opportunities to travel when they were making films, and work with them, and gradually I got sort of pushed into directing. I didn't know anything about film, so I was directing television, and I didn't know, I didn't know which, where the, which end of the camera to look through. I didn't know anything. I did everything wrong, but I got fascinated, absolutely fascinated by it, and I thought, no, this is, this is pretty interesting. I can avoid real work, I don't have to get a regular job, and I can, I can make good money, and I can have all this fun, like a kid. I can be a kid forever, you know, a child. So I got very excited, and I, I did all this television, I, I sort of grew into it. But you know, when I come to a class like this, where you are all very serious about movie film, and I feel very guilty that, I can't say to you, I, when I was six years old, I wanted to be a film director. I ran all the films of Orson Welles, and Godard, Truffaut, and Antonioni, and I did it. Ok, prima di tutto devo dire che quando, appunto, quando mi trovo davanti a una classe come questa, delle volte mi sento molto in colpo, proprio perché non posso dirvi, sì, quando avevo sei anni, volevo fare il registro da quando avevo sei anni e guardo altri film di Godard, di Truffaut, di Antonioni, no, perché non è vero in realtà, quindi mi sento molto in colpo perché in realtà voi siete molto, invece, molto motivati. Quello che è accaduto è che in realtà ho colto al volo un'opportunità che mi è stata data. Quello che volevo fare in realtà era fare l'attore, ma non ero assolutamente un grande attore, e non avevo, non mi offrivano le parti proprio, adesso me le offrono perché in realtà non mi interessa più molto. E quindi quello che ho fatto è stato insegnare cinema prima di tutto, e insegnare recitazione, scusate, prima di tutto. E questo è accaduto quando avevo 19 anni a New York, e questo un po' mi ha inserito in quello che era l'ambiente, che avevo l'occasione di viaggiare, di frequentare i registri, e piano piano, in certo senso, è una sensazione quella di fare il regista che è cresciuta insieme a me, è cresciuta man mano, è stata un'opportunità a portare un volo. E man mano mi sono appassionato, sono innamorato del cinema, ma in realtà all'inizio lavoravo principalmente con la televisione e non conoscevo assolutamente neanche la WC del cinema, non spero neanche da quale parte della cinepresa guardare. Quindi all'inizio ho fatto moltissimi errori. E poi mi sono talmente innamorato che ho pensato che bello, posso essere un bambino per sempre, posso giocare, posso evitare la vita reale, i lavori veri della vita. Quindi mi sono appassionato estremamente ed è così continuato. I think there are many ways to approach making films, but there is a big division between two of them. Sometimes you want and need to make a film in order to tell the world something no already. You say, I want to prove an idea, a point here. A volte si sente il problema, la necessità di comunicare al mondo un'idea che già si ha. Quindi voglio provare questa idea e cercare di comunicare ad altri. Quindi in questo caso il film è già realizzato prima di essere filmato. and the filming becomes really a recording process. You just record on film what you already know, what you've already worked out. You stage it, you rehearse it, then you shoot it and you know what it is you're doing exactly. And I think often wonderful films are made this way. I've seen many great films made this way. But I don't know how to work myself. The other way of working is you don't know exactly what film you want to make. But you have an idea. You have a feeling about it. I personally don't know how to work in this way. Even if there are great films in this way. The second type is to try to transmit what is a sensation, ma non avere breve chiaro che tipo di film si vuole fare. You say, for example, if you make a comedy, that you know it has to be funny. You try to make it funny. If you make a thriller, you know it has to have suspense in it. But if for example you want to explore what it costs to be in love, let's say. You say, is it possible to say I love you and mean it without giving up something of yourself? Is it possible to stay completely independent of another person and still really be in love with another person? And you don't know the answer. And now you say, okay, I'm going to make a film. It's going to be, there's going to be a lot of animals in it and shooting and a lot of other things. But it's really going to be a man who wants complete independence and a woman who wants complete commitment. And they're both right, they're both, the argument is a good argument. And then while I'm doing it, I'm trying to figure it out myself in some way every day. Every morning I come in with a new scene. I'm scribbling and it drives the production crazy. It's very difficult to do this. Yeah, it's difficult. Allora, ma se ad esempio si vogliono esplorare dei concetti molto più universali, ad esempio l'amore, ci si chiede, voglio cercare di fare un film su questo concetto, se è possibile essere innamorati e al stesso punto rimanere perfettamente indipendenti. Quindi quello che si sa semplicemente che, qui ovviamente si sta riferendo alla mia africa, voglio fare un film dove ci saranno molti animali, voglio fare un film dove ci saranno delle separatari, ma voglio fare soprattutto un film che non può essere umani. Uno che vuole esprimere il suo sentimento di amore rimanendo completamente indipendente. Un'altra persona che vuole esprimerlo sentendo dentro di sé e pretendendo dall'altro un impegno completo. Come riesco a conciliare queste due posizioni? Quindi in questo senso mi capita di svegliare tutte le mattine e avere un'idea diversa e magari prendere appunti e fare impazzire la produzione e gli attori, perché anch'io sto cercando di sapere la risposta. Sommi, quando io vedo il film che mi ha fatto, mi sono molto sorprendente. Sommi, veramente. Sommi. 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 meccanico, non così planico, non così construttivo. Ok, ovviamente No, ma scusate di tradizionare. Ho già pronti tutte le ignorazioni, poi magari vedo una luce che colpisce un muro, ad esempio che fa un'ombra in un certo modo particolare, allora devo rifare da capo, però questo lavoro preparatorio è un po' come la rete protettiva per un circo, per un trapezista, quindi è estremamente importante perché mi guida, perché è sempre un supporto che mi guida. Quindi in realtà non c'è niente di così meccanico, si spera sempre che qualcosa riesca a scaturire da processi inconsci anche dopo che questo lavoro di preparazione era tempo. As far as the writing is concerned, I've made 18 films as a directory, and every one of them has been written by the same guy. I've been working with him forever. I've worn him out. He's an old man now. But he is not the first writer on the film. Usually I choose something and then I start over again in the room with this guy, David Raphael was his name, and we write together. I don't sit down alone and start from scratch and write, but I write in the room with him. Ok, ho diretto 18 film e tutti con lo stesso sceneggiatore. Di solito si tratta di un processo che non riguarda solo me in partenza, magari lavoro ad un'idea inizialmente e poi comunque sempre insieme a lui procediamo con la stesura della sceneggiatura. Sono me David Beckham. David Beckham. Oh, this is the most difficult question so far. First of all, of my own movies, I don't have a favorite because it's like my fingers. I like this thing, I like this thing, I like this thing, I like this. It's, you know, it's very difficult. It's like your children or something. It's hard, sometimes your favorite is the one that is the most troubled, like you have a child that doesn't do so well in school or something, you know, so I think the films, my films that have flopped, that have been very unsuccessful, have been my favorite films. As far as other people's films go, I, I, I couldn't say that there are a lot of that there's only one favorite, you know, it depends, you know, it depends so much on the mood you're in, sometimes you're in a mood to see Citizen Kane, sometimes you're in a mood to see, I don't know, some, you know, the best years of our lives or something. I mean, you just, it depends on, sometimes I want to see, sometimes I think my favorite film is Singing in the Rain, it just depends, if I, if I want to whistle and watch Gene Kelly dance in the water, you know, I want to see Singing in the Rain, but if I want to look at camera work, you know, some kind of storytelling and maybe the third man, or, or, Godfather, sometimes, so I don't have just one, it's impossible. It's impossible to scegliere il solo film, anche perché molto spesso dipende dal proprio stato d'anima, a volte può essere Singing in the Rain, si voglia di guardare Gene Kelly che sartella sotto la pioggia. Allora niente, come al solito faccio solo il padrone di casa, eh? Per dare il benvenuto all'ospite, ma come già sapete, che il potere, perché io mi saluto in mano al collega Polo. Salute, salutiamo Silvio Bolle per il terzo nome di un parerlogio e quindi le due presentazioni e le tecnicali saranno fatte dopo. Grazie a tutti. Grazie per essere avuto. Grazie a tutti. 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 I don't know what the scholarly definition of it is, but obviously it's preoccupied with human beings. But I suppose what you mean is a cinema which is preoccupied with ideas or that explores dilemmas or conflicts. That are focused on moral or ethical or philosophic issues that in some way elevate human beings. That is, it's not focused on issues of, let's say, physical danger only, but it's focused on issues of moral or ethical danger. And that the exploration of which in some way moves human beings closer to some sort of real knowledge of what you refer to when you say a moral universe. or an ethical universe that has goodness in it, whatever that means. I don't know how to define it, but I think that's what you mean when you say a human being. I don't know how to define it in terms of scientific, academic, but I think that, with that word, I don't know how to define it. 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 I think it's very dangerous. I think it's very, very dangerous whenever you begin to ask popular culture or, if I may say, sometimes art, mostly popular culture in movies, when you ask it to bear a burden that cannot bear, which is to be a watchdog, which is to play a public relations role, it doesn't work. I mean, we have seen extraordinarily well-crafted films that came out of Russia at the height of the Cold War that were beautifully made, but were essentially propaganda. It was a kind of form of propaganda, and I don't think you can do this consciously. I mean, you can tell the truth about what America is and what America isn't, and that's all you can do. You can't artificially create an image like a press agent does for the rest of the world. It's not fair to ask popular culture to play that role that isn't the function of it. Yes. So, I think it's a very, very dangerous question. It's a very dangerous question when you ask the popular culture, and then you can talk about it, and 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 you can talk about it. It's a very dangerous question. We ran a little bit at this old time. Have you ricochiert these things, and then, really interested the difference in public relations which is nothing but 컨 ecco, sono cose che mostrano anche me fuori, ma non devono me fuori coscientemente. Posso mai stare in un film, non è un vero subiettivo del film. Si può dire, certamente, che cosa sono gli Stati Uniti, che sono oggi, ma non in modo se fosse una vicina, ma non è un po' se stessa, non è un po' se stessa, come si dice i figli, molti fatti sono la nostra vivenza, non è una grande, non è una cosa che si sente, non è una cosa che ha fatto. Well, in general, there's been a big, rather sad decline in America of cinema from all countries in Europe. I mean, in the 70s, and 60s and 70s, and maybe even into the early 80s, American film audiences were very interested in Italian and French and Scandinavian and Japanese cinema. For some reason, it's not so popular now. We don't see a lot of Italian films in the States. We don't see a lot of French films. We see occasionally, you know, millennia. We see some movie that becomes very popular. In France, it's Amelie or something that goes to the States, and it's very easy, and it's very popular. But we don't see serious, we don't see very many of the really serious movies the way we used to 20 years ago. I don't really understand why that is. And because I live in America, I suffer also the way the Americans do, because my knowledge of Italian cinema is only what comes to America, for the most part. So that's all I see. So I don't know nearly as much about the Italian film world as I used to know 20 years ago, when I was following all of the films that were made in Italy, because they came to America. I was going to capture a lot that has listened to me and they came to me and look, I would therefore let me know a lot about the considering that I... I was easily concerned. In the near 60 and 70, compared to the first years ofvida incubator La nostra conoscenza del cinema italiano, che è quello, il francese, l'altro, era veramente grande, è grossa, arrivata un fila, si avvenneva un giramento, noi arrivavamo un giramento, poi invece no, ora non è più così, non so ne vedo più, non arrivano, sì qualcuno occasionalmente, Alena per esempio, o Amelia, facciate i francesi, ma le cose non sono comunque, ma io non so perché, non saprei la mia spiegazione, d'altro canto io conosco solo quello che arriva, quello che viene seguito, quello che viene dato nel mio paese, e dunque non ho soltanto niente conoscenza di come stanno le cose che ci vediamo, e anche il nostro cinema italiano, che oggi è una volta, sapete, una volta ero preparato, conoscevo, e adesso per questo è la giusta, ma io. Can I try, not a question, but an explanation, America is becoming more and more, and not no wasp, but a civility, we were living in California, you know, in 50 years, and maybe less, but before you have become a Spanish-speaking, Spanish-speaking country, country, so with such an immigration, Asiatic people, Chicagos, all of them are interested in this moment to understand the deep local American situation in order to get acquainted with, so they are enormously less interested in Europe, which is a sort of ghost, which was not the situation with Irish, Italian, Jewish immigrants that try to keep the content in touch with Europe. I think that this social, the anthropological mutation has a real impact on the phenomenon of the cinema. Yes, I think that's a very good point. I agree with that. I've never occurred to you, but I think it's a very good point. Thank you very much. Perché è dura, forse è una spiegazione, da un po' di tempo, lo sappiamo, la multiculturalità degli Stati Uniti è che dovevano un'esplosa e l'immigrazione, ma stanno avendo una posizione, un posto. E' una prima volta l'immigrazione del nome europeo, si parla, si parla, si parla americana, un grosso posto, un grosso spazio nei Stati Uniti, per esempio, in California in particolare, è complessibile, cioè, si può dire, che queste persone vogliono capire, come noi arrivati, diciamo così, negli Stati Uniti, vogliono capire la cultura locale, la cultura locale, la cultura locale, il porto, e si disinteressano, in tutto sommato, le culture che vengono da una cultura, che viene da un pittro europeo, che è una sorta di fantasma per l'Europa, per l'Europa, che ovviamente non è, in tutto, la cultura degli itali americani, degli tre americani, così, altre culture locale. E quindi questo modo, se vuoi pensare che questa è stata una, per esempio, il secundario, in università, in Olimpia, in Gia. E' anche il generale, che è una nuova, che ha generato in ieri, che si sta messo in ieri, che si vengono i giorni, in ieri, in ieri, in ieri, al mondo, si stavano in ieri, con rock music and you had a television on with no sound so a picture was playing rock music was playing you were doing homework at the same time it's a very impatient generation with development of a story you have to get a gun out very quickly you have to shoot with the gun very fast or they're very bored very quickly it's a little bit like for me it's a little like you know a tabasco sauce hot red hot sauce if you put on the food you can get so that you don't like any food it doesn't have you have to keep putting more and more hot sauce on it so it there's a certain kind of impatience now for for film you have to get to the point very quickly and it has to have a they look for immediate sensation of some kind of feeling very quickly so it's more difficult to to catch the the attention of all the life of life si, raggiunge Pollack che viene presente anche che la generazione che va al cinema di più circa 3-4 volte nel settemane negli Stati Uniti è una generazione sempre più giro a parte di persone di vita sempre più giro e sono colori che sono cresciuti facendo i compiti come gli scopoli diciamo facendo i compiti con le cuffie mentre spolto con la televisione accesa ma senza il volume in altre parole si tratta della generazione di paziente i pazienti nel senso che non hanno pazienza di aspettare o di seguire lo sviluppo di una storia loro vogliono queste storie fuori subito e risparmi immediatamente ecco non c'è preparazione per questo e per qualunque altro sono sempre un po' come il dalasco se lo conoscete questa salsa voi ne mettete un po' per ravvivare il cibo e poi non ne mettete abbastanza voi dovete sempre aumentare, aumentare, aumentare la cosa e dunque una sorta di pazienza nei confronti dei film per cui il film va a fare subito, tra i gradi subito, immediatamente si tratta dunque della ricerca per questa generazione della ricerca e della ricerca della sensazione immediata ed è difficile fatturare la rivoluzione con la generazione della generazione e per questa ragione lei ha cambiato il modo digitale o i tipi di argomenti, se c'è il tipo di argomenti, se c'è il tipo di argomenti che ti vuole un'azionato senza più interessi a diventare uno spazio di argomenti, s'è un libro per la ricerca che buona guarda sono in generale, non mi ha cambiato il modo di lavorare perché non mi ha cambiato perché si non è un po' come ma si sono un regio di vera, perché non mi ha cambiato bene 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 bene, ne ha una cosa che non ha I watch some of these films and every once in a while I see one that I like very much that has this tremendous energy tremendous way of being mosaic rather than linear very mosaic with many things going on at once and it can be very exciting it's a particular skill that some younger directors have that's interesting European directors too I think maybe this is true all over now but in America now the audience that makes a film successful honestly is from 15 to 25 years old it's impossible to have a big success if you don't get those very young people to come when I say big success I mean I mean an expensive job I mean because I don't know I don't think I've had anything but not nothing pubblico, interessato per un film telemagico, e il primo di notare che non è che mi sono attenuto al mio usuale modo di girare, è un mio usuale film, per qualche tempo, perché io sono un prezzo, sono un uomo di grande normalità, non so fare altro, non so fare solo in quel modo il cinema, e quindi continuo a farlo così. Dovete dire che un tanto mi piacciono con gli altri film, l'altro tipo di film mi piace, mi piace per la sua energia, per la sua mosaicità, nel senso che non c'è la linearità che mi piace, ma c'è una capacità di muoversi in un rizzagando che può essere molto interessante, e è eccitante questo tipo di film, e ci sono alcuni giovani che sono davvero grandi, ne fate queste cose, anche in Europa, anzi credo che c'è un fenomeno che va oltre gli Stati Uniti, e che riguarda un po' tutto il mondo. ma tuttanto, per esempio, nei Stati Uniti, le persone, il pubblico, che detta legge, nel senso che vedete il successo, o mai il successo, di un film, sono persone che ha detto, a cui cavano dai 15 ai 25 anni, e ovviamente non è molto semplice parlare a persone, soprattutto di un'opportunità di un'opportunità, di un'opportunità di un'opportunità, ma non c'è nessun'applicazione di un'opportunità che devono andare a prendere i film, di un'opportunità di fare partecipare, io ho trovato quale essere spesso che regalere le film, soprattutto and it was a way for me to practice some form of craft, while not having to direct. If I would produce, I would work on the screenplay, I would work on the casting, I would work on the editing. So I could, in a way, it was like going to the gymnasium to do a little bit of a workout. It didn't have anything to do with final cut, because the final cut, I have a final cut as a director, and I do have a final cut as a producer, but sometimes I give away the final cut if it's an important director. Then I give that away to the director of the final cut. But when I'm working with young, new directors, then I have the final cut. But part of my job as a producer is to really support the director, and try to get them to make a good enough film, where I won't have to use the final cut, where they can cut the film properly. Production is a different craft than directing. I mean, we can say many things about producing. You know, there is no definition. This is the problem. I mean, you can produce a film sometimes just with money. You can produce a film sometimes if you only know how to sell it. You can produce a film sometimes if you are very constructive creatively. There are so many ways to produce it that I wouldn't say necessarily that everybody who wants to be a director should start as a producer. But sometimes that happens. There have been directors who start as producers. It's not necessary. I have been introduced for a while, but I couldn't have a lot of reasons. I'm not interested in that. I've simply occurred to this one because I was a producer and artist, I've never done so much. I've never done so before and all so. I have been introduced. è un giusto di entrare produttore per un modo di praticare una qualche realtà, qualche arte anche in qualche modo, senza però fare il regista. Una cosa che non ha a che fare con la vera e il Final Cut. Il Final Cut è un vero che l'ho sempre avuto sia come produttore che come regista. Con dei registi bravi, tirani, frano, collaudati, è una cosa che mi tengo e lo lascio perdere, lo faccio a loro come produttore. Con i giorni invece non ce l'ho, con i giorni si ho, il frano è un po' tempo di già. Ma devo pensare una cosa, devo aiutare, devo dare supporto, aiuto al regista, perché le venga fuori come un bel film. E dunque inizia adesso, non dovrei neanche pensare a fare il Cut. Cioè devo pensare a un film che già di per sé viene fuori, però senza di bisogno di vedere se è anche prima che ho avuto il diritto di fare il Cut. E produttore è comunque una cosa diversa da dirigere. Non c'è una definizione precisa di cosa è un produttore. Tu sei un produttore perché hai possibilità di avere di usare il tenaro come un film, ma sei anche un produttore perché sei molto ambile nella capacità di vendere il film, di sicurezza. Sei produttore anche perché hai una grandissima creatività nella costruzione del film. Quindi ci sono molti modi di essere un produttore. E poi credo che sia necessario come un logista per entrare in mezzo, non solo l'ora, 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 credo che non sia necessario avviene in qualche modo da fare ancora produzione. ... ... ... ... ... ... ... No, I've heard the, we've all heard the phrase perfectionist used over and over and over, but he's the only real perfectionist I think I've ever met. I mean, he is, he is, was obsessed with detail, and in an amazing way. I've never, I've never seen this kind of preoccupation with every single detail, even detail that you don't even know is there. And it's, it's, it's marvelous, and it's also very difficult as an actor, because he, he doesn't necessarily know what he's looking for until he sees it. So, you have to do it over and over and over and over, sometimes for days, sometimes, I mean, I've never seen this before, where you do a hundred takes, a hundred times, where you do the same short piece of the scene. Now, you know, I like to think of myself as being somebody who looks for perfection too, but I can't in any way compare the directing styles, because they're very different. I'll just do that much in a moment. Well, go ahead. Well, I think you've always heard about it. Well, I think that the only one professional 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 who has ever seen me when I've ever seen. He was absolutely obsessed with the details. I've never seen it, I've never seen it, I've never seen it. I've never seen it a long time, but there's just a few details, that I didn't even know what I've seen before. era fantastico, una cosa fantastica è questa, ma è anche una cosa molto, molto difficile di parlare. Ah sì, talvolta addirittura anche le riflessioni che non sono sempre meno quello che cercheranno, finché non lo trovano. E questo andava anche tra i giorni. Non sono singoli scena, ma non sono singoli momenti, piccolissime parti di scena, che hanno avuto addirittura cento test, cento riprese, stessa scena, cento volte. E io guardate, penso a me stesso come un profezionista, ma è su quello che non c'è il minimo paragone con il profezionismo di Kubrick, che lo vanno comunque nel modo. Lo sento per il tempo di un profezionista, lo vanno comunque nel modo diverso. Kubrick was always looking for something very close to opera. It wasn't simple reality, it was operatic, what he wanted. There was an actor once that said to him in the picture Full Metal Jacket, that said to him, Stanley, that last take felt good. He says it felt real. And Kubrick said, real is good, interesting is better. He was looking for something else. Sì. Sì. Dunque. Sì. Sì. Ehm. Sì. 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 He began a fotografo, he was a Look magazine photographer... So he has an extraordinary eye and , you know, that room had a different look with a red table than it would ever have had, with a green table, which is the conventional. I tell you, he used to go to lunch and they would leave the lights on and then he would come back after lunch and he would look and he would say, somebody changed the light. And they would argue. The technicians would say, no, Stanley, nobody changed the light. And he would say, yeah, they changed the light. Get your meter. And they would take the meter out. And of course it was a fraction different that he could see, that nobody else could see. He just, he had an eye. And I think, there was a book that I started out. It was an eye. It was an eye. It was insane. It was insane. And so, it was the beginning, the first thing it was that didn't happen yet, it wouldn't make it so. la sua moglie è una patrice che è una patrice anche molto grande ma che sono solo i quadri che vediamo nel film dovevano anche molto molto esercitato e mi ricordo che andava a fare lancia e lasciate le luci accese, continuava e diceva che qualcuno ha cambiato le luci con l'intensità delle luci e i tecnici diceva no, guarda che nessuno non gli ha niente, sì, io dico sì, cosa prendeva l'esposimetro, 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 l'esposimetro e effettivamente una frazione luce al più basso, più più alta, è un po' appena di tre versi, luce è una concetta dove nessuno, i tecnici, i personalizzati, i professionisti, non c'è nulla ancora, io non sono le luci ma non c'è nulla ancora, io non credo, io non credo. I think there were many things to admire in art, però è una mixa, 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 di sensibilità, che era molto difficile Sì, non credo. Non c'è qualcosa che è molto greco, ma neanche una strana mescolanza di sensibilità e mescolanza di elementi che sono molto difficili da mescolare. I mean, Kubrick's films were very unsentimental, and very, very tough in a way, all of his films. And there was a kind of a romanticizing of the idea of the creation of an artificial being that Spielberg has a love of, as you see from E.T. or from his other films. And I think this mix of the two was a little bit difficult. Not that it wasn't interesting to watch. I found an interesting film to watch, personally. But your question is not, did I think it was good, but did I think Kubrick would have liked it? And my answer is, Kubrick, I don't think, would have liked it. I enjoyed it. I enjoyed it. I enjoyed it. I enjoyed it. I liked it. I enjoyed it. C'è invece anche una specie di romanticizzazione, l'idea della creazione di un'estratidiciata, sono cose che non si riescono a fare ciò. Nienteniamoci, il film è molto interessante da vedere, molto bello. L'advocato mi ha chiesto non se il film è meglio, ma se sarebbe piaciuto tutti. Questo è un po' più complicato. La questione, do you think that Kubrick would have thought that you were eager to think that Kubrick would have done? I don't know, now I try to imagine what the film would have looked like if Kubrick would have made, you know, what he would have done. Ovviamente non sa come Kubrick, avrebbe fatto se avessi prodotto fatto per il cinema. ... 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 and replaces the literature that you're losing. The better the book, the more difficult it is. Sometimes it's better to rethink a book and change a good deal of it in order to remain true to the idea of it. To make it work as a film, sometimes the worst thing you can do is try liberally to do the book. Try to just cut some things out and do the book as a book. Then you have something sometimes which is a half of a film and a half of a book. It's nothing. I think one of the best adaptations I've seen in the last few years was The English Machine. If you've ever read the Ondaatje book, it's a lovely book, but almost unfilmable when you read it. The film was, I think, very true to what Ondaatje wrote, but it's reimagined, almost like reading the book and then going to sleep and having a dream about the book in which the essence of the book stays, but the way in which things happen changes to be more suited to film language, the language of film. So, it depends on the level of the literature, the novel of the inspirations, and it depends on what you do. spesso abbiamo dei film che sono fatti, sono fuori fatti, ma tutto lì lo succede, spesso, Condor per esempio, non è un bel libro, non è un periodo del Condor, che in realtà erano sei giorni per il Condor, nel titolo originario, su un conto, un pubblico, su una questione di quanto riguarda, mi interessava poco, però avevo una bella premessa, sono partito, tenuti dalla premessa, sono venuti da due, e quando invece siamo belli, è molto più difficile, è difficilissimo fare un po' l'allattamento cinematografico, perché deve diventare di trovare un altro linguaggio che ripiazzi, diciamo così, il linguaggio invece è vero, in base alla lettera. Oltre è meglio, in questo caso, è meglio ripensare il libro, come dire, cambiare movimento, però lo so, per essere invece fedeli, il cambiamento in questo caso, ti permette, ti può permettere, di essere fedeli. La cosa peggiore, la cosa peggiore è che uno dei migliori adattamenti, da un buon libro che ho visto, è il paziente inglese. Il libro originale di Andacce era un bel libro, ma è un libro infirmabile, non poter essere prodotto. E il film invece è fedeli, ma è fedeli perché ha rimaneggiato, ampiamente ha rimaneggiato il libro, in quel caso il film è risolto come se fosse i prodotti della lettura di un libro che poi è stato risolto, o sognato, per essere poi vantati. Grazie. 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 la classica se per lui lo screenplay è una forma di interpretazione Now, considerando che il grande dei tuoi film ha un liceo di flavor specialmente da black dialogue avanti a radio Would you say that screenplay è una formazione? Sì Sì È una completamente different construction da qualcosa che è done alone È una formazione You know, you would never leave, as a writer you would never leave rhythm up to somebody else You would write with the way you control the rhythm of it The screenplay is a in some ways is a blueprint for a film It's not a film It's not born as a film There are some screenplays that you can read, I think as literature They're rare I think Yes I 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 ma anche con una costruzione completamente differente, completamente diversa dall'opera della letteratura che si fa da soli, che è una forma molto colorativa di lavoro. Se tu come scrittore, non lasceresti mai che altrimenti essere dalle mani di turismo, per esempio, di quello che hai scritto, di come lo vuoi, di come lo vuoi fare, come lo vuoi tenere, la faccina di scrittura è uno schema, è un documento, è uno schema per un film, non nasce come film. Alcune sono i datori, di fuori e di come le terapie, sicuramente, ma nascono, come si vedeva, tra l'idea di essere tracopoli, tra l'idea di essere tracopoli, ma niente di essere una cosa. Grazie. Grazie a tutti. 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 Almeno sempre le screemplare change in processus. Once you go there and you see the light, and you see the real people, it changes, something changes. So I would say that I would consider if you want to judge it as a form of literature, you would have to read the final version that was made into the film. Sometimes it's less, sometimes it's different, sometimes it's more. We, in the last years, we have devoted some similar series here to the problem of translation from literary work. One of the book mentioned problems is one of the literary reticence. The literary reticence. which leg Akab left in Moby Dick? The right one or the left one? Answer. Melody never says which one. is a form of reticence. I don't know how much it has a symbolic weight or not. Anyway, it's a way to make Akab more mysterious. Houston was obliged to make a decision. It was the left one. So the story of translation from the novel from the novel that is full of literature very blatant reticence which is crucial that the author doesn't say something in order to leave the reader the reader could imagine to suspect that it would remain in a different situation. You, as a movie maker, you are obliged to show it. So, did you have an experience of this kind? In which way you could escape and solve differently the situation? Yes. You have it. That's very true what you say. And you have the situation in two ways. You have it the way you describe and then you have it the other way because when you read it's a very private experience. You see in your own head and you fix what you don't like often, unconsciously. If you like the writing and you come to a description if you're a man and you're reading a description and the man says that I saw the most beautiful woman I've ever seen came into the room then you create this woman. But if I choose as a film maker the woman and you don't think she's very pretty you know in some way I have failed you. I mean I have to make choices all the time where it becomes visually more vivid than it is on the page because the writer leaves each person to see it in his or her own head in some way. Sometimes a situation I found I couldn't put on film the way it was written because you would see that it didn't work. it works on the page but it doesn't work when you stand it up in a group season because there's a kind of a group lie detector test I mean the whole group together knows when to laugh at something it doesn't like or it does like whereas you might not have that experience if you sit alone with the book and read but yes translation is full of these problems of making specific something that was kept not quite so specific for purposes of of the literary thing. Allora depended a partire da quello che dicevo se si a di merito al leggo diciamo la traduzione c'è un ambito un altro c'è il problema della reticenza cosiddetta della reticenza del terreno esempio del campo di legno di Hayek Hayek e quella è la camera da destra e la sinistra Hayek Hayek non è mai detto ecco è una reticenza è un simbolo da significare qualcosa rende certamente più misterioso la figura Hayek però quando si arriva al film quando si arriva al film quando si arriva a girare Hayek e a lui un punto di no lui deve decidere perché lui deve mostrare sulla schiena e quindi la camera deve essere o la resta o la sinistra ecco spesso in letteratura abbiamo delle grandi efficienze un'esperienza delle grandi efficienze il regista non può permettere solo questa efficienza deve scegliere deve scegliere e chiedeva ha un'esperienza il regista ha un'esperienza di questo e si diceva io verissimo quello che dice anzi ci sono due modi di una è quella che ti ha per me altra è il fatto che quando leggi tu leggi è è una esperienza privata un'esperienza dell'automento che fai con te stessi mentre te stessi a tema mi piace come stai leggendo ma può non piacere a qualcun altro ti fa un certo effetto ma può non fare a qualcun altro e ogni volta tu devi fare delle scelte ogni volta ogni volta ti rende un tipico addirittura più vivido quello che vedi perché non è detto che come lo vedi tu lo vedi mi si sarebbe aggiornato quindi che possa piacere anche qualcun altro a volte ehm si a volte non posso ehm parlare di il film visualmente mentre quello che nella pagina funziona perfettamente dunque ehm quello che voglio dire è che tu fai un'esperienza da solo nella lettura che però non è l'esperienza che fai invece quando il film fai un'esperienza che fai con un altro di gruppo che è una specie di questa esperienza comune è una specie di lie detector di modo di trovare di scoprire quello che fa questo è quello che ho preso del film originale uh uh there's a lot of room now uh I think uh I don't know what the ratio is but I would say it's at least half and half you know half of them are original screenplays and half are adaptations it's a little bit easier for a movie company uh with an adaptation because they can see what they're what they're gonna get you know they have a book they have something to buy but uh it's it's mostly up to the writers the writers don't wanna write without being paid first you know they don't wanna go away and write and then try to sell a screenplay uh and that's the reason that they buy so many novels but I would say it's about that that's it's interesting not you know there are no I'm saying it's you know if the 19 the 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 perché è più facile per il famiglia di matografico è più facile aver mandato in mente un libro nel senso che ora compri un progetto, compri un pastoio vedano bene, ovviamente, quello che sta giù e quello che avranno, ecco, su qualunque scrittore va a guardare però voglio dire, ma perché non si può imparare? Well, it's expensive for a writer to write a spec screenplay who's not being paid until he writes it that means he has to go away and write an original and then bring it himself and you write your own screenplay? I work always with the writer I would be terrified if I looked in the paper with white I would get the shakes but I work in the room with a writer and work on it I can only answer that person for myself I can only answer that person for myself I can only answer that person for myself I don't have a theory about what's correct you know, there is no correct and incorrect way everybody works differently I myself one of the reasons I do something like this come here to a place is because the only way I can have a theory is if somebody asks me a question then I have to think then I have to come with a theory but I can't I would be paralyzed if I went on the set as I was directing and I was having a theory in my head while I was doing it I think you understand things as you gain experience and you know you gain knowledge and sometimes unconsciously you have theories but I mean for example when I'm when I'm filming a scene sometimes I ask myself I just say to myself if if I was peeking through a hole in a wall do I believe what I'm watching you know or do I think they're doing it for me for the camera that's a you know something I just think about or know but I don't think about theory in a formal way at night after I finish shooting when I look at the film that I've shot I might go home and think about theory I might say I might remind myself tomorrow I have to try to work more toward an intellectual idea or more toward something but at the moment that I'm working at the actual moment the most creative ideas do not come from theory that they come from something you do not understand it comes from free association in your head like just from connecting one thought to another accidentally not 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 for me for me for me I 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 perché tu hai la linea di avere una certa conoscenza delle cose. Senza sapere lo forse, puoi anche avere, detto il bambino, la testa, puoi anche avere la teoria, ma non certamente perché conciamente la stai applicando, non io, io, non so, giro sul set, sto girando, dico me stesso, guardo, guardo, dico a me stesso, credo a quello che vedo, credo davvero a quello che vedo. Ecco, io non penso la teoria in modo formale, quando giro. A volte, la notte, venite da loro, su set, vengo i giornalieri e me lo ho a casa, e a quel punto penso la teoria. Penso la teoria e mi dico, domani voglio lavorare andando verso un'idea molto intellettuale, rispetto a quello che ho fatto dopo oggi. Ma, mentre la lavoro, nel momento in cui sto lavorando, quello che è creativo dentro la loro non viene accettamente dall'autoria, ma viene da una libera sensazione molto creativa del mio senso. e che non si pensi, prima di iniziare, che il film già esiste, che è finita, e che ho bisogno di cercare, 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 I just have to find it in some way that it's already there in space or in time in some way and that that I that I have to find it you know, it's a little like you know the sculptors often say that the piece exists in the rock and they just have to get rid of what's in the way what's not important and what's left is the sculpture in some way and sometimes I think the film is like that it's more difficult to imagine for film but that that it exists somewhere and that what will that it's instinctively I'll find it in some way by working on one moment at a time one moment and then the next moment and then the next one all right all right che il film esiste già l'ha già fatto l'ha già fatto l'ha già fatto da qualche parte nel sondanza nel tempo e l'unica cosa che io devo fare non è farlo non è giratlo la luce è carlo e l'altra quella devo lo trovare è un po' come sapete il discorso sulla scultura qualcuno ha detto che la scultura è già lì nel pezzo di marmo e che quello che lui fa non è scultura non è scultura non è trovare la scultura che è già dentro nel pezzo di marmo è un pochino così con il film è un po' così istantimamente però lo so che lo troverò lavorando momento per un momento la domanda è se non mi spiace per un momento facciamo fine che non abbia mai gelato il giorno del giorno e che stia con gelato adesso ecco sarebbe un film di Ray Faye un film diverso in rapporto alla situazione politica sociale o altro di oggi in America e anche in rapporto a nuova situazione tecnologica e anche in rapporto digitale eccetera e anche in rapporto a fare un film I think it would change very little technically in terms of digital technology in terms of both things but I don't think I could get it made today because things have changed radically since September 11 in the United States and to to try to you know we spent 20 years attacking the CIA attacking certain government institutions very popular in the United States particularly with younger people to protest what we saw as an unfair way of behaving the climate is different now it would be very hard to make a picture that was so seriously against the secretive part of the CIA now because so many people feel that we should have been warned or we should have known through intelligence that something like that was going to happen and that perhaps it's because we were so tough on the CIA that some of its power was lost I mean I'm not taking a position here myself I'm just answering the question if I took that script today to the studio it's very likely that the studio would say I don't want to make that picture now it's too critical of the CIA I don't think I would change it digitally I haven't seen it in a long time but my memory of it is that it's you know it's not about digital stuff it's about paranoia and about what happens to him as a character and the relationship with Faye Dunaway and those things but I don't think I would I don't think it would be a better film if I put digital things if you want that's a certain thing for sure I think I think I think I think if I do today it would be a little bit from the point of the technical in the point of the film digital or other where you could use it or other it's a paranoia or a part of the protagonist of the Dannaway etc. etc. non credo d'altra parte che potrei fare di un ritorno oggi, questo sì, perché dal 11 settembre molte cose sono cambiate, abbiamo passato una ventina d'anni a protestare anche duramente contro la CISA per tutti i giorni, protestando contro i modi scorretti, contro i modi scorretti critica negli supposti segreti della CISA, molti pensano, vedete, soprattutto dopo l'11 settembre, molti pensano che noi abbiamo dovuto sapere, essere informati, prevedere in qualche misura quello che poi è accaduto, se questo non si è avuto, cioè il fatto che non ce l'abbiamo detto, non siamo stati preparati a questo, molti pensano che questo è successo perché è ricordata, perché abbiamo attaccato nel passato, a questi vent'anni, troppo duramente la CISA che adesso è a conto più vebile e non ha potuto svolgere il ruolo che avrebbe dovuto svolgere nel tenerci allarmati, in realtà, di quanto meno, su quello che potrebbe succedere. Oggi se passiamo finire in genere alla produzione, alla produzione del menù. Oggi è arrivato a un punto in cui si può integrare una fotografica digitale fotografica in un'attività fotografica, per alcuni sequenze, in cui si muove molto velo, e potrebbe potrebbe essere possibile a fare uso di questo, non lo so, non lo so. Io sto facendo questo per la prima volta, in un documento che sto facendo, su un architetto, e io sto facendo con la storia, in un'attività, e questa stessa, non troppo più di sottopola, perché c'è un'attività, anche ci stupendo, senza un'attività, di fare un'attività e una più grandezza di un'attività, senza un'attività di un'attività, come una cosa che è fare, con un'attività, per un'attività di un'attività, le fotografia, l'architetto, che sto facendo con la super 16. and tried to blend to see, I don't know, it's an experiment, sì. You know, people often don't believe me when I say that I don't see the films afterwards. Very much. I said I don't, because I'm afraid if I saw them I would want to remake all of them. I see them when I make them, and then I don't see them anymore. I mean, I was saying to Franco, because he said there are a lot of people in Italy, there are some few people in Italy that want to see this film called The Yakuza, which I haven't seen this movie in 25, 26 years. I don't even remember a lot of it. I mean, I remember it, but I'm sure if I looked at it I would want to remake all of it. You know, it's 28 years ago. I'm a different person now. It's dangerous to look at it. I think I'm going to go see it tomorrow or whatever, just to see what it is. But I'm sure that I, you know, if not the whole film, at least parts of the films, of all the films. Sometimes I, when I'm watching television at night or something, I see a piece in one of my films. And I watch it a little bit until I can't stand it, then I change. Because I see something I hate, you know, and then I change the channel or something. Because it's difficult. It's very difficult to see something that you did a long time ago. Because, you know, I was making films in the 60s and the 70s and the 80s. Every, we were thinking differently. You know, I was, I was just a bunch of product of the 60s as everybody else. So, to look at the films that I made in the 68, 69, 70, it's difficult. Difficult to watch. And here are some questions, please. In, in the 60s, I get those films. This movie, you see? That's fair. I get it. And then you see it, I see it all over there, I see it all over there, I see it all over there. And I see it all over there... If at all, you see it all over there. Meglio che almeno non lo ricordo bene, però te lo rifarei. Perché? Perché oggi sono un'altra persona rispetto a 25 anni fa. Se ne è pericoso, è pericoso vedere i propri film, dei filmbacking, ma indietro molto indietro nel tempo. Poi io forse, non so, non rifarei forse due film, però certamente, in alcune parti, te lo rifarei sicuramente. Perché di notte, mi cambio di vedere la televisione e mi cambio di vedere qualche film che passa. E guardo, si trova un po', poi chiudo, cambio, non sopporto, non sopporto perché vedo delle cose che non piacciono, vedo delle cose che odio addirittura. E questo è che è difficile, però è molto difficile vedere delle cose che tu, adesso, hai fatto molto, molto tempo fa. E' anche il fatto che tu hai detto, negli anni 60, 70, e non ti temi, perché pensavamo in modo diverso, in modo molto, molto diverso. E non c'è nulla cosa, ma se questi pensieri. E oggi siamo altre persone. E probabilmente anche per questo non riusciamo a sostenere la visione di quello che abbiamo fatto molto tempo. Molto quando ci vedo un piccolo film senza un piccolo film e non mi ricordo un piccolo film. È molto triste. Espera, però non ricordo come scusa, e mi ricordo, che è proprio interessante. E adesso non ricordo che non ricordo che Championship. Ma poi. ...questo mi sento che ti è che... Ehi! ...sì, a me devo dire che, oltre a dire, anche delle cose che mi piacciono, mi colpiscono, rimando impressionato da quello che ho fatto. E poi, e poi? E poi? Ma è molto bene, no? Ma come è che ho fatto? L'ho fatto questa cosa da qui. E quindi mi piace, per un momento specifico. Poi aveva qualcosa altro che mi piaceva, e allora, ultimamente, mi moro di carlo. no, I'm never going to make a remake again unless nobody ever heard it it's a film that nobody ever saw everybody has to make mistakes once well, I'm not a different person I mean, I'm the same person it's just that technically, you know, I was new and so I was both more I was less wise, but more adventurous maybe, maybe I tried more things because I didn't know what to be afraid of when I started out, you know but the sensibility doesn't change I mean, my own whoever I am, it's still the same sensibility so I don't I see that all of my films have been love stories in some way I didn't plan it that way but that's what's happened there have been different genres there have been westerns, comedies, thrillers but always I've been preoccupied with relationships with, you know, men and women and the difficulty and the romance in some way in all these different forms and I've moved from one form to another over the years but when I say that I would that I would make it differently now usually I'm talking about something technical that I was technically naive in a way or I watched 10 minutes of a movie the other night that I directed and I didn't understand anything I mean, I wrote a note to myself you know, I said oh, you know, it's not clear that this is a bad guy I mean, I just was not clear but I wasn't but the concerns of the film are the same concerns I would have now it's always the same in that sense due to the general it's not clear it's that technically in that time I was very new I was really young I was a no- hatten I was more confident I was more I was more I was more afraid but the fact I can say is not the same it's practically remaining the same all of the time Tutti i miei film, per esempio, a posteriori, sono love stories, sono storie d'amore, ma non sono stati pianificati in quei termini, cioè non è che all'inizio sarei pensato adesso faccio una storia d'amore, io faccio una storia d'amore, alla fine vi rendo conto di aver girato sempre storia d'amore, è così. E notate questo, sempre più giocando, usando diversi generi, diverse forme, la maestra, la dramma, la comiglia stessa, cioè un film su ogni seconda sulla difficoltà e l'amore in forma diversa negli anni. Certo, questo sì, oggi vi farei tecnicamente diversi, diversi, senz'altro, perché allora ero tecnicamente più ingegno. Non so, l'altro giorno mi è capitato di vedere dieci, meno che sono i decidenti di un mio film e certamente non capito che cosa avevo fatto, nel senso che non era chiaro tecnicamente il modo in cui avevo messo avanti, che avevo, come dire, caratterizzato, il tuo personaggio è buono e caratterizzato. Ecco, ma di interessi, i miei interessi, i miei interessi sono rimasti gli stessi, e allora anche l'altro. Non lo so, l'ho deciso, è anche l'altro, l'altro, l'altro. Quindi possiamo dire che siamo riusciti a fare ammettere a un regista americano che considera a se stesso un autore? Quindi possiamo dire che ci siamo riusciti a dire che ci siamo riusciti a dire che ci sono un autore, Do you mean the first professional active job I ever had? Il primo lavoro professionale come un autore che mi ha avuto organizzato? Sì, sì. Oh, così, ma... Sì, il primo lavoro professionale, sì. Yeah, I remember. Sì, sì, ma riusciti. You know, it was terrifying. Marable, marable. It was a live television show that I grew up watching when I was a little kid, so then when I went to do it and I heard the voice of the announcer, I was... La domanda che volevo porre a Sierney è di carattere proprio interculturale, cioè non c'è anche un dubbio che per girare un film del genere un regista americano, una troupe in gran parte americana, degli attori ovviamente in parte americani, abbiano trovato grandissime difficoltà. E non le difficoltà che di soli lo trovano, o come si trovano, sul set, girando un film qualsiasi, ma difficoltà di carattere culturale. Pensate soltanto, non so come intendersi col fotografo che era giapponese, per esempio, ecco, e come intendersi con una cultura? Vivendo lì giorno per giorno, girando, avendo a che fare con le persone, dovendo chiedere, indicare, muoversi o altro, lavorare naturalmente, come trovarsi con persone che, l'avete visto anche nel film, hanno un modo di pensare, un'organizzazione di pensiero completamente diversa. E questo è proprio quello che volevo chiedere inizialmente come apertura a Sierney, le difficoltà che ha incontrato in questo senso. Well, first of all, this is the first time I've seen the film in, I think, 25 years. I couldn't understand it. I think there's one reel missing. I really do. Because this is my own print. I think I sent a print that's got a reel missing. Because I was watching it, it was going fine for the first 15 minutes. And then suddenly, there's a big problem. And I couldn't figure out where the problem came from. They're suddenly looking under the hood of a car, rusty or dusty, whatever his name is, says that guy doesn't like you. And I was, I'm absolutely sure that there's a reel missing. So I apologize. Devo dire che questa è la prima volta che vedo il film da 25 anni. E devo ammettere che non l'ho capito. Però, secondo me, è la mia coppia. Però, secondo me, manca un rullo. Perché io l'ho seguito benissimo per 15-20 minuti e poi non andava tutto bene. E poi dopo c'è un problema, mi sembra che ci sia un salto. E quindi sarà che ho perso un rullo. È come guardare dentro una macchina ed è arrugginito. C'è qualcosa, insomma. I mean, it's my own print. So, obviously, when they made the print, I think there's a little suction missing somehow. Got... Sorry. It got okay, but... But... It was tough going there for a while. Eh, la coppia è la mia. Quindi si vede che... Ma, se hai perso qualcosa per strada, non so. Però mi è sembrato un po' di difficoltà a un certo punto a comprendere tutto. As far as the cultural differences are concerned, you know, it's a pretty... It's got a lot of rough action in it, as an action picture. I was interested in trying to do a picture of this form. But I kept looking for a way to make it about more than just guys killing each other. And this sense of honor, of promises kept, of debt, of what is owed, was very, very interesting for me. And the sort of western-eastern cultural difference became both the focus of the picture but also a lot of the basis of the difficulty in getting it made. Per quanto riguarda le differenti culturali, ovviamente questo è un film d'azione, ma è un'azione anche molto violenta e spinta. E volevo appunto soffermarmi su questa forma, però non mi continuavo a chiedere come potevo fare per superare anche e uscire dal formato, beh, gente che si ammazza ai vari modi. E volevo esplorare proprio questo senso dell'onore, del debito da pagare, dalle promesse da mantenere, questo scambio tra occidente e oriente che è diventato il punto centrale, il nucleo del film. Queste differenti, ma nello stesso tempo hanno rappresentato le difficoltà del film stesso nella sua realizzazione. I mean, for example, the cinematographer, who's a very great Japanese cinematographer, named Kozo Okazaki, he spoke no English, not one word, and I, you know, knew how to count, one to ten, that's about it. I knew how to say please and thank you. So, he had a card, and I had a card, and the card had ten squares on it. And the ten squares went from white to black. It was a great scale card. And I used to take the card, and I would point to Robert Mitchum's face, and I would go, like this, and he would nod, and then I would go, he would nod, and then he would point to the background and go, and I would go, yes. And this was the way we lit the picture, frame by frame, which was very, very funny, as well as difficult. Diciamo che il direttore della fotografia, il fotografo era un giapponese, Kozo Okazaki, che non parlava una parola di inglese. Il regista dice che, insomma, il giapponese sapeva contare in 10, dire grazie, prego, insomma, formalità, in metà altro. E quindi avevano, per comprendersi, utilizzavano una tabella che è la scala dei grigi, e quindi era un quadrato diviso in 10, 10 per 10, con bianche e nere e così via. E quindi per ogni, non so, il regista puntava a Robert Mitchum e diceva 3 con le dita, questo diceva d'accordo, poi il vestito e diventava 7, e poi invece il direttore della fotografia puntava sullo sfondo e diceva 1. Ed è in effetti, e quindi con questo modo hanno deciso le luci del film, delle riprese, e cioè è abbastanza difficile lavorare così, ma ci sono riusciti. I had a very, very difficult time staging the fight sequences because I had in my mind the sense that there was some special trick sword that you could make look like it was stabbing you, but it really wasn't stabbing you. and when I asked for this sword they looked at me like I was crazy, they didn't have such a sword. So we had to figure out ways to make, it's easy with guns, you know, you can use a blank and you can put a, what they call a squib into a hole and make it blow up. Very, very hard to do sword work convincingly when you don't have trick swords. Un'altra scena che è molto difficili sono le scene degli scontri, delle lotte, proprio perché con le spade, io volevo delle spade finte che potessero quindi essere abbastanza, cioè molto convincenti. È molto più facile filmare scene quando ci sono armi da fuoco perché si usano quindi delle pallottole a saldo e poi c'è un meccanismo per cui si esplode e quindi sempre gli che si colpisce e così via. Invece con le spade che non c'erano e diventava molto difficile fare delle scene convincenti. But I think from a cultural point of view the most interesting thing to me was the concept of atoning for offenses which is so different in the east than in the west which is based based on Christianity and confession in a way that is to say you are sorry really in the eyes of an Easterner costs you not enough. those are words you do not give up something of yourself you merely say I'm sorry that the concept of confession to an Easterner that is if you do something very very seriously wrong to and you can fix it by by saying a prayer three times this is a very strange and unacceptable concept in traditional Eastern thinking because you pay nothing personally for it and it was part of what fascinated me about this idea of what the true meaning of debt is and how you absolve yourself from debt, how you make it even again in some way. Un'altro concetto su cui mi sono molto soffermata in questo film e che mi ha intrigato, cioè il regista è proprio questo della diversità di come si ripaga un debito, nel senso dell'onore e dell'offesa e che sono completamente diversi antidecici proprio perché noi deriviamo il nostro approccio dal cristianesimo quindi dal senso della confessione mentre invece nel... in Oriente dire semplicemente mi dispiace non è sufficiente, quando si fa qualcosa di davvero sbagliato la confessione dovrebbe servire per trovare la assurzione e quindi si prega tre volte ma questo in Oriente è totalmente inaccettabile perché non si paga personalmente per l'offesa fatta e quindi era proprio questo che mi interessava, questo approccio veramente diverso tra l'Oriente e l'Occidente del concetto di debito, di offesa, di come si ripaga il debito personalmente. No no, non no, n탄 due persone che in questo caso erano molto più innocenti che si sono distrutti un modo per andare pari si pagano i debiti e si è pari no, he was originally always intended to play that part he is in many ways was at that time already in the 70s a kind of a dinosaur I mean he was a guy that had survived everything in a way and he was a part of a of a generation that was passed in a way another generation with another set of values if you will I mean the 70s already was beginning to be a young people's market there were beginning to be films that were cultivating younger and younger people Mitchum was already an old old star by then kind of fading star as a matter of fact I don't know what to tell you about him he was an amazing man he was a one of the he was a great raconteur he was an incredible storyteller and he he used to imitate everybody women and men that he worked with he'd imitate Sarah Miles he'd imitate David Lean he would imitate everybody he also was a huge drinker he carried a bottle of scotch around with him and by by two or three o'clock I usually had to stop shooting because he was drunk well diciamo che era e sempre abbiamo pensato a lui subito per la parte era proprio fatta per lui però ricordiamoci che allora negli anni 70 Mitchum era già un dinosauro era un sopravvissuto rappresentava una generazione già del passato in quegli anni già si cominciava veramente a rivolgersi a un mercato sempre più giovanile sempre più di giovani sempre più e quindi lui era una Elkia Stella che già sulla via del tramonto insomma però era un personaggio sorprendente era un raccontava storie era benissimo era un affaculatore e un imitatore bravissimo imitava tutti attori attrici o personaggi con cui aveva lavorato da Regulina Sara Maia che era bravissimo e inoltre altra caratteristica era un forte bevitore non si muoveva mai aveva sempre al suo fianco una bottiglia di scotch e alle due alle tre del pomeriggio bisognava chiudere non si lavorava più era un grande divertimento era un grande divertimento era un grande insomma si ricordava un po' questo personaggio del passato uno che beve continuamente che fuma continuamente ma è un grande divertimento ecco io profitterei di questa domanda su Michum per chiedergli invece come ha scelto il protagonista giapponese Takakura Ken che mi sembra uno dei punti di vera forza del film mentre invece a mio avviso questo attore straordinario che è Michum in questo film è più debole che in molte altre occasioni mi sembra soprattutto che liberato del suo cinismo la sua maschera risulta essere un po' indebolita e forse anche meno credibile e forse quando Franco parlava appunto dell'interculturalità di questo film uno degli aspetti più sorprendenti è proprio quello che Pollack si è riuscito a fare all'estero con una troupe in parte assente che non aveva molti dei suoi collaboratori con un direttore della fotografia giapponese è riuscito a fare un film che è così suo che è così propriamente suo ma ecco se ci può raccontare come ha scelto il protagonista giapponese un'amera con un'amera di stile McQueen quality in a way, he was very internal, very quiet and so I also thought he was very strong in these films, he had a very clear quiet strength and personality so I hired him basically from the films that I saw primarily because I didn't want a mixture of style I didn't want to try to have this very Japanese style of acting mixing with Mitchum and the kid who played Dusty diciamo che lo stile giapponese è molto più operatico rispetto allo stile occidentale, se pensiamo ai film di Kurosawa, quindi la recitazione per noi appare talvolta esagerata e quindi ho cercato un attore che però presentasse delle caratteristiche di recitazione pur essendo giapponese più vicino allo stile occidentale e Ken io l'ho scelta guardando appunto i film in cui aveva recitato e lui mi ha ricordato un po' come caratteristiche Steve McQueen quindi uno stile di recitazione anche molto interiore un personaggio tranquillo ma allo stesso tempo di forte personalità e quindi guardando questi film suoi l'ho scelto e mi interessava presentare nel film questo mix di stili di recitazione Mitchum da una parte e Ken dall'altra sia giapponese this was the first time I worked with Dave Bruce was my first and I liked working with him so much that I continued to work with him many times in this particular film he wrote the theme the melody of the theme before I shot the film and he came to Japan while I was shooting so that he could orchestrate the song that's in the nightclub which is the theme it's kind of old fashioned now I see when I watch it but it used to be in pictures where you would use the theme as a song sometimes in many of the other films that I've done with him he's never written a note until after I've filmed the picture he reads the script we may talk about it but I think in two films he wrote before this film and another film called Bobby Deerfield he wrote the theme for the picture before I shot the picture but for example Tootsie or The Electric Horseman or Three Days of the Condor or these other films that I wrote The Firm or that I've done with Gruson it's all been or Havana it's all been written after Questo film è stato il primo film con cui ho lavorato insieme a De Gruson esatto e mi è piaciuto tanto la sua music quindi è continuato anche successivamente e in effetti lui aveva per questo film aveva scritto il tema quindi la melodia del film prima che io intiassi le represe poi dopo è venuto in Giappone mentre noi stavamo filmando per orchestrare sempre seguendo il tema la canzone che si sente nel nightclub suona un po' un po' vecchio stile quello di però allora si faceva così quindi di utilizzare il tema come una canzone poi durante una scena del film e altri invece con altri film o quasi tutti gli altri la musica è stata scritta da compositori dopo le riprese ovviamente leggeva la sceneggiatura probabilmente ne parlavamo insieme però lui ha sempre scritto dopo dopo che abbiamo dopo il girato forse in un altro film oltre a questo un altro film che si chiama Bobby Deerfield qui ha scritto prima e invece per Tuzzi per i tre giorni del Condor per il Cavaliere Elettrico per Havana tutta la musica è stata scritta dopo le riprese well there was originally a screenplay called the Yakuza which was very very different than this screenplay which I was given by the studio Warner Brothers it was a straightforward martial arts picture they were very popular in the 70's a lot of Kung Fu it was a big martial arts picture and I I wasn't interested in it in the beginning but the more I thought about it the more I thought that I could be fascinated by this culture clash I started thinking about I just had this image of a sword and a shot in my head that there's this gun and then there's this sword and one is is so much different like dancing the sword fighting and the other is so explosive and staccato and that these two cultural things could be fascinating in some way if I could find an idea that the violence was in the service of rather than the violence for its own sake which was the way it started in a way diciamo che l'idea del film nasce da una sceneggiatura che mi è stata presentata dallo studio quindi dalla Warner Pro e che era completamente diversa dalla sceneggiatura che poi vedete nel film era un film una sceneggiatura di arti martiali Kung Fu e così via proprio senza nessun'altra aggiunta erano molto popolari questi generi di film all'epoca e all'inizio insomma non è che mi interessasse molto poi invece ripensando oggi più ci pensavo questo mi ha interessato molto l'idea o affascinato l'idea di questo scontro culturale tra culture diverse e avevo sempre nella mente questa immagine della spada e della pistola quindi e della differenza del combattimento cioè se il combattimento con le spade era musicale una danza invece con le pistole era più un aspetto esplosivo di uno staccato quasi musicalmente e quindi mi affascinava l'idea di di cioè di trovare una giustificazione a questa violenza che non fosse come nella sceneggiatura originale precedente la violenza di per sé senza alcuna giustificazione giustificazione che è tutto che sarà in Roma ma spero che mi fanno spero che mi fanno in breve ho lavorato come produzione in Montepulciano e in Roma e in diversi paesi ma non ho lavorato in un tempo come direttore in Italia e ho spero proprio di sì ci sono andato vicino ho lavorato anche recentemente insomma come produttore a Montepulciano a Roma in una produzione con un grande designer italiano Dante Ferretti e quindi ci sono andato molto vicino però spero proprio di poterlo fare ultimamente non ho lavorato come regista ma più come produttore in Italia un'ultima cosa sempre io volevo sapere se conosce il cinema italiano di oggi e cosa ne pensa grazie però questa domanda l'hanno già fatta in tutti gli incontri sì non so se certo 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 you know I grew up watching Italian cinema in the days of Fellini and Antonioni and Francesco Rossi and a lot of Italian directors Italian cinema was very very popular in the United States in the 60's and 70's all European cinema is less popular in the United States now for reasons I don't entirely understand and because I'm a victim of what comes to the United States I don't see as many Italian films as I used to other than the ones that are suddenly big hits you know there's one every year maybe that breaks through in America so I don't know the Italian cinema the way I used to know it you know I used to go see as a kid the films of Visconti and you know all of those early great Italian directors I don't know what that will anymore to be honest with you Sono cresciuto con il cinema italiano di Fellini di Antonioni di Visconti Francesco Rosi e quindi negli anni 60 e 70 il cinema italiano era veramente molto popolare adesso lo è molto meno negli Stati Uniti non so veramente dare ragioni motivazioni per questo e io sono vittima anch'io di ciò che avviene quindi all'improvviso c'è questo film un titolo forse all'anno che sembra che arriva negli Stati Uniti che diventa popolare e basta quindi è questa la mia conoscenza del cinema attualmente del cinema italiano non conosco molto molto meno no no I don't I don't I think it would be unfair to characterize the Japanese culture saying death is the way out I don't think that's that's precisely true I think that what is true is that there is there is a lack of acceptance of the concept of what we think of as heaven and hell and what we think of as absolution by apologizing or confessing those were the things that we talked about in the film the concept of giri is the concept of a burden which you accept when you owe someone something and that debt has to be paid if it isn't paid you can never quite live in peace the eastern cultures have a very strong concept of shame we say losing face there's a there's a very strong concept of that but I am not the one to educate you on eastern culture you have to go buy a book and read about it because I'm hardly an expert I learned about it what I needed to know about it to do the film and I was fascinated by it but I don't I don't claim to be an expert on it so I don't think I should be explaining these things because I could make a big mistake I think I don't think I don't generalize so much and identify the approach of the Japanese just saying that the death is the only way of that remains I think I think limitative and not correct what I think is been exploring in the film is the lack of acceptance of a occidental or christian of life of paradise iso ed inferno e questa mancata di accettazione dell'altro concetto dell'assoluzione mediante la confessione molto cristiana il concetto di Ghiri vuol dire peso responsabilità che una persona si assume quando è debitrice nei confronti di un'altra e quindi responsabilità di pagare questo debito e se questo non viene fatto l'individuo non può vivere non può tenere la pace avere la pace con se stesso e un concetto anche molto forte che appare la cultura giapponese orientale in questo caso di vergogna si parla di perdere la faccia però insomma dice il regista non si sente di essere non è un esperto di cultura orientale si è accostato questa cultura nel per imparare per apprendere i concetti che gli erano necessari per il film forse dovete comprarvi in Libro in Libro mi sento un po' come Charizard delle mille una notte che devo raccontare per non essere uccisa insomma comunque dicevo sempre che vedo anche forse dovrei finire perché vedo la gente che va che va via però volevo quando in colloqui come questo dicevo che io devo parlare e la gente ascolta comunque se voi finite prima di me fate la mano no no I just you know I made lots of drawings of my own sketches I was trying to think of it in Japanese terms I'm very aware of the physical design of it seen from above for example or the way the way that padded white playing area was when they played cards it was like a big drapery or a sash and I tried to stage a lot of the sword fighting around that kind of runway around that white swatch of color and then contrast the slow almost sensual moves of the sword fighting with very abrupt interruptions of the gun fighting in a way diciamo che le scene sono preparate con molti disegni con molti skiff questo dice regista lo faccio sempre per preparare le scene poi ho affrontato queste scene pensando in termini giapponesi quindi molto sull'aspetto estetico quindi con riprese dall'alto di lato e in più anche giocando molto su questo sul bianco di questa zona dove per esempio si gioca carte questo che è come una grande cintura una linearità bianca una passerella e qui dove molte scene si basano anche le scene degli incontri con le spade si basano proprio su questo colore bianco che rimane proprio un segno significativo e contrapporre la sensualità del gioco delle spade all'immediatezza violenta degli spari delle armi questo mondo è un scotch è un scotch è un scotch ma io vorrei comunque entrare uno scotch perché dico ma nessuno che spenda una parola sulla sequenza iniziale relativa all'incontro dopo 20 25 anni fra lui e lei è una cosa straordinaria io ho visto 3.000 film in vita mia ma almeno io non ho mai visto una scena del genere di qualche tipo ma l'ho mai vista sempre a parlare perché non parlano sempre a parlare senti l'amore ovviamente la tenerezza del ricordo l'orgoglio per la figlia guarda che è bella guarda come l'orgoglio di lei naturalmente e la memoria i gesti non si parla loro parlano fra di loro ma noi non li sentiamo ma c'è bisogno di sentirle sappiamo benissimo quello che dicono ma vediamo i gesti non la fotografia che riprende il gesto di lui praticamente 20 anni non sono passati per niente sono più vecchi però sono loro non sono cambiati sono un momento di una bellezza una tenerezza e di un ritmo apparentemente molto lungo in realtà è perfetto un minuto in meno un minuto in più sarebbe stato sbagliato io l'ho trovato ancora eccezionale di un minuto in meno che aveva anche un altro che aveva come attore che credo che vedi nei filmi che fa ha il stesso contenuto riservo in un'interesse in un modo che ha in un'interesse e quando è sui la particolare materiale che ha chiuso io credo che ha fatto un bellissimo lavoro è molto smart è molto speciale io credo siamo in competizione ora devo dire che è molto bravo come regista è la stessa intelligenza che mostrava ad attore la mostra anche nel suo essere regista il suo controllo la sua riservatezza quindi fa sì che quando il materiale che sceglie come regista si adatta a queste sue caratteristiche ecco il risultato è ottimo insomma è speciale una persona speciale brava e adesso siamo dei concorrenti che sono due differenze uno è un'interesse e un'interesse è completamente in condor è completamente open e non lo 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 è lo è lo 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 è to him, which was the intention there it's a little bit like saying you can never get away in Jeremiah Johnson the intention was to end the hostility to finish it by honoring the foe in a way, by saluting him in some way, so although they both were freeze frames or stop frames they had two completely different meanings at least in my head in effect it's true what he said, they are just two very different the image of the three days of the Condor is just to leave the end open we don't know what happens he will continue to be chased or you don't know you can't escape from your destiny in the end there is a exit so we don't know it remains like this mentre invece nel film Corbo Rosso questa immagine che si ferma sta a indicare la fine delle ostilità il saluto al nemico l'onore si riconosce il proprio nemico e lo si onora great you know it was commercial television it wasn't always very good programs but it was fantastic to learn I did probably four years of television let's say I did 70 or 80 shows 70 or 80 little movies half hour or one hour the consequences weren't grave if I did it badly most of it was bad anyway almost all of it but I wasn't going to get in trouble if I did it that wasn't very good so you had nothing to lose so you you could take chances you could experiment you could learn I learned an enormous amount because I did western shows I did thrillers I did you know love stories I did all kind of comedy shows I did whatever I could get work on you know sometimes I did a lot of doctor shows there were a lot of doctors Ben Casey and Dr. Kildare all these doctor shows everybody was a doctor you were always running around a hospital room very much like ER that was the same thing just was black and white in the beginning and then God was in color then around 64 63 64 so you know I was very young I was learning and it was great so I have nothing bad to say about it except you know it wasn't I wouldn't want to go back and look at any of the shows I did I didn't have a school of cinema so the television was my school of cinema here I did I did I did for the television Chiaramente non è che fosse una grande televisione, era una tv commerciale, però è stata una scuola fondamentale, veramente fantastica, un posto dove ho imparato, sperimentato, più o meno ho lavorato circa 4 anni, in questi 4 anni ho fatto 70-80 programmi, tutti di mezz'ora o al massimo un'ora. E poi in realtà non è che ti succedeva qualcosa di gravissimo se poi sbagliavi o se quello che facevi non era un gran che, perché tanto già il livello era già basso di suo, quindi insomma non succedeva niente. E quindi mi ha permesso di veramente sperimentare, di imparare moltissimo e di tutti i generi, perché dai western, dai thriller, commedie, moltissimi programmi sui dottori, quindi il dottor Kidderi, il dottor Casey, un po' come I.A.R. adesso. L'unica differenza è che ero bianche nero, mentre allora solo ero nero, cioè adesso poi siamo passati a colore nel 63-64, quindi è stata veramente una grande palestra, quindi molto ero giovane e ho imparato tanto. Beh, non è che ho tanta voglia di rivederli però. Bene, dobbiamo chiudere qui. Grazie, grazie per la vostra attenzione. Niente, due parole di presentazione che per l'altro non sarebbero neanche necessarie, diciamo così, non mi starò a fare la storia di questo invito raccolto con grandissima simpatia, amicizia, disponibilità da parte di Mollac. Non vi sto a raccontare i giorni, ieri, l'altro ieri, che così ha incontrato studenti, oggi anzi, ieri ha incontrato studenti, non mi sto a raccontare che domani ci sarà Yakuza all'Arlecchio. Penso che sono cose che più o meno sappiate, sono stati messi dei giornali e pubblicizzati, eccetera, dimentichiamocelo. Approfittiamo, dire, dell'occasione per parlare invece con lui, questo sì, questo mi pare importante, visto che non capita tutti i giorni. Tra l'altro, ecco, viene in questo, voi avete visto un film, anzi il film, vorrei dire, ma in un certo senso di Pollack, è uno dei suoi film più noti, di maggiore successo, di maggiore riuscita, ecco, se volete ne parleremo con lui, certamente, ma, ovviamente, non siamo qui solo per parlare di John McClendon, è un'occasione troppo chiotta per fermarci a un più bellissimo film. Potete, anzi, meglio, porre domande su quello che ritenete più opportuno, in merito, ovviamente, alla sua figura, alla sua opera, alla sua personalità, agli altri film che ha fatto, naturalmente. Però è ovvio, è naturale, che partiamo, che si parta da questo, evidentemente, l'avete appena visto, siete freschi di visione. Forse molti, chi lo sa, è anche possibile che alcuni, sono molti, non l'abbiamo visto, perché io lo presco, noi diamo per scontato che di Canberra o altri film di Pollack, parlo di quelli degli anni 70, o anche prima, li abbiamo visti tutti, non nemmeno neanche ha detto. Per esempio, gli accusati, io so che molte persone, parlo di giovani, evidentemente, non l'hanno visto, non è un film che si vede molto, per esempio, ecco, e grazie a Dio avremo l'occasione, alcuni avremmo l'occasione domani di vederlo, un film straordinario, che non fu un successo al botteghino, affatto, affatto, ebbe buone recensioni, critiche, ma da un punto di vista, quindi, successo di pubblico, non ebbe, e invece è un film che oggi, con il tempo, è un po' come un buon vino, no, è cresciuto nel tempo ed è diventato un piccolo classico del noir. del noir, non lo so se è soltanto un noir, anzi, so che non è soltanto un noir. Come del resto, questo non è soltanto un thriller, tra i giorni dell'icona, certo che è attribuibile, ascrivibile all'ambito di uno specifico genere, come altri film drammatici o meno drammatici di Pollack, o certi western di Pollack, o un film di guerra che Pollack ha fatto, da noi era Ardegna 44 e un inferno, Castle Keep, nell'originale, sì certo sono film di genere, ma non sono film di genere, perché se una cosa ha caratterizzato l'opera di Pollack in generale, e devo dire tutto sommato un po' l'intera New Hollywood tra gli anni 60 e 70, è stato proprio quello di rivisitare i generi con uno spirito diverso, uno spirito, come dire, non tradizionale, uno spirito non ossequiente, ma pur mantenendo ovviamente le linee di fondo che caratterizzavano i singoli generi, alcune novità, alcune innovazioni, alcune deviazioni sono state portate nei singoli generi. Per esempio, partiamo da qua, partiamo da qua, nel inter-journale Condor, che ripeto, è certamente un thriller, non c'è alcun dubbio, abbiamo però anche un altro livello, che spesso nei thriller non incontriamo, nei thriller classici, non incontriamo, è di un livello di carattere che io chiamo così tentativamente esistenziale, cioè si può leggere questo film non solo con un ottimo entertainment, molto molto bello, molto che ti prende, che ti cattura, certo si può fare questo, ma si può leggere anche in un altro modo, si può leggere come un'avventura della mente, un'avventura dell'identità, un personaggio a un certo momento, che vive una vita relativamente tranquilla, disimpegnata, si trova braccato, in una situazione davvero pesante, cioè ne va della sua vita, e non sa di chi si può fidare, non sa assolutamente chi è dalla sua parte, non sa nemmeno se c'è qualcuno dalla sua parte. E cosa fa? Ovviamente tenta di salvarsi la vita, e tenta connettendosi occasionalmente con persone, con una specificamente da noi, con una persona che trova per caso, gli chiede, ricordate un certo momento un personaggio, l'avvio cattivo, dice a Max von Sydow, gli chiede, ma dice, è stato bravo, ma ha scelto quella ragazza, su quale va? Dice no, giusto per caso, mi è andata così. L'altro pensa in termini professionali, se uno fa quella scelta, evidentemente deve avere avuto in mente dei fini, deve essere partito da un ragionamento. Lui no, lui vive come ha sempre vissuto la sua vita in termini di occasione, di chance. Ecco, il film, dicevo, può essere una magnifica metafora della vita in se stessa, di come le cose sono, di come le cose ci capitano, dei pericoli che corriamo, che magari non sono mortali, non è che la CIA o la CIA dentro la CIA ci insegue e ci vuole ammazzare, questo non credo che capita a tutti noi, a molti di noi sapere questo, ma non sappiamo mai, ci pensiamo bene, non sappiamo mai cosa ci sta capitando, delle forze che sono attorno nel nostro mondo, nel nostro mondo personale, individuale, nel nostro mondo, nelle forze, dicevo, che stanno lavorando, talvolta contro di noi, non perché ce l'hanno con noi, ma perché stanno andando in quella direzione per loro ragioni e noi siamo nella strada, siamo nella loro strada, no? E in qualche modo facciamo loro ombra, in qualche modo diamo fastidio. In questo senso parlo di una dimensione esistenziale, una dimensione esistenziale che, vi prego di notare, raggiunge il suo, a mio avviso, evidentemente è un'opinione del tutto personale, il suo culmine nel momento in cui Redford incontra la Dunaway, nel momento in cui il primo, come dire, il primo lungo momento di sospetto, anche di odio possiamo dire certamente, no? diventa qualcos'altro, a poco a poco, a poco a poco, i due cominciano, diciamo così, a intendersi, ad aprire piccoli varchi nella comprensione l'uno dell'altro, fino alla straordinaria, qui sono convinto di questo, alla straordinaria scena d'amore, in cui persino la macchina non ha presa, fa l'amore con loro, si muove in avanti e indietro, un movimento molto sensuale, verso le fotografie, le fotografie che alludono a Diana Arbus, evidentemente, la grande fotografa, e verso di loro che sono invece allacciati, diciamo, nel rapporto amoroso. Questo è un segno di grande sensibilità, è un segno di grande capacità di usare la macchina da presa in termini, come si diceva una volta, significanti, cioè dare un significato al movimento di macchina, che non è soltanto un modo di raccontare, e può essere molto di più, ed è certamente molto di più in questo film. Dicevo dunque, un film, o un livello del film, di carattere esistenziale, che sento molto, molto, molto forte. E per dirvi, e qui chiudo, perché a me ne fa parlare lui, non me, per dirvi la qualità straordinaria, a mio sempre avviso, di Pollack come regista, vi vorrei, vorrei che voi forse fermate su due scene che avete visto, ma appena adesso, nel film. Uno, all'inizio, Redford è braccato, scappa, aspetta il tempo, aspetta una telefonata, e non sa dove andare, perché tutto può essere, può essere pericoloso. Che cosa fa Redford? Prende, e va al Guggenheim Museum. Lo ricordate la scena, no? Perché va al Guggenheim Museum? Perché non va in un bar, perché non va in un, non lo so, in un parco, o in un altro, qualunque può. Ma quella scelta ci dice di lui, il suo carattere, la sua cultura, la sua personalità. La scelta del Guggenheim, ci parla di lui, non è soltanto una, come dire, un set, o una scenografia, è molto di più, è molto di più, è un'informazione sul suo carattere. Secondo esempio, lui va a trovare la moglie dell'amico, non mi ricordo quello che poi viene ucciso, insomma, ecco, e l'amico non c'è. E voi capite, con una certa attenzione, voi capite che il rapporto fra lui e la moglie dell'amico non è soltanto quello di amicizia, non è soltanto la moglie che lui conosce da molti anni, si capisce dalla familiarità che ha con lei, non è soltanto un rapporto tra lui, c'è qualcos'altro, o meglio, c'è stato qualcos'altro. I due hanno un modo di rapportare nello spazio, fisicamente, hanno un modo di rapportarsi che mi dice che fra i due in passato c'è stato qualcosa. Sono piccoli tocchi, ma sono tocchi straordinari, perché aggiungono mistero, aggiungono difficoltà, aggiungono complessità ai caratteri e all'azione del film. Certo, anche se entra questo il film andava avanti, per carità, è vero, eppure con questo come si arricchisce, come si arricchisce il carattere, come si arricchisce la trama, come si arricchiscono le sfumature relative ai singoli personaggi. Questo per dire quanto, Pollack, notate che questa quest'ultima non è una mia, o meglio, eh sì, è una mia idea, è una mia notazione, ma ricordo che anni fa chiesi a Sidney, dico, ma ho fatto lo stesso discorso l'ho fatto a voi, e lui disse, sì, è vero, ricordo che ho dato agli attori delle indicazioni perché lo spettatore avesse questa sensazione. Quindi, ho la prova certa, ho la prova provata di quello che ho pensato. E questo per dire quanto Sidney lavora in finezza con gli attori nel loro modo di muoversi, di interrelazionarsi l'uno con l'altro. Capite che un thriller, cioè un film che vuole soltanto tenervi in sospeso, non vada, non vada a questi particolari, se ne ci vada. Ed è questo che secondo me che fa la grande differenza con un bravo, qualunque bravo regista di carattere, quindi di gena. Well, the idea which, you know, it's not necessary that you understand what's in my head. I mean, I use my own ideas to construct a film, but I try to bury the ideas a little bit. So, it's difficult for me to talk about really what's underneath. but the fact is that he is a man in this film who moves from trusting everyone to trusting no one. at the end of the film, at the end of the film he's completely paranoid. She's a woman who is afraid to be close and a nightmare happens to her. A man with a gun kidnaps her and forces her to be close and she doesn't die. Nothing terrible happens. So, she discovers a kind of trust in the course of this. So, my thought about the love scene really was to try to integrate the pictures, the still pictures that she took, which he describes as having no life in them. he says there are trees with no leaves. It's not summer, it's not winter, he says. It's in between. He says you take pictures but there's no leaves on the trees. There's no life in the pictures. They're dead pictures. Okay, yes, go ahead. Diciamo che io parto da qui dice regista e parto da questa idea e però non sta al pubblico e non è funzione, non è la sua intenzione per far sì che il pubblico capisca l'idea che ha nella sua testa. Cioè, l'idea gli serve per costruire la scena ma nello stesso tempo la scena deve seppellire o deve in qualche modo nascondere l'idea. Partiamo dai due personaggi. Lui è un uomo che ha all'inizio del film fiducia in tutto nella sua esistenza. Il percorso del film fa sì che lui non abbia più fiducia in niente in nessuno. In effetti alla fine si è trasformato in un autentico paranoico. Invece la donna è una donna che ha paura di essere della vicinanza, di entrare in contatto con qualcuno e quindi le succede l'incubo peggiore. Cioè, arriva quest'uomo con una pistola che la obbliga a essere vicina a lui. Però non succede assolutamente niente nel senso che non muore non è niente di terribile e quindi e alla fine lei riacquista una certa fiducia una certa avvicinanza. Poi l'idea della scena d'amore era quella di integrare le foto queste foto che lei ha scattato e che lui considera assolutamente prive di vita dice sono alberi senza foglie non sono né estate né inverno anche in una situazione intermedia tra queste due stagioni um you know i was i was really trying to make a love scene that uh in which they traded places in which he he wakes up in a way trusting less than she does And part of it was to look at... You know, he seduces her in a way by pointing out truths about herself that she didn't know. He says things to her that she didn't ever know about herself. There's something very seductive about someone knowing you better than you know yourself. What he talks to her about is what he knows from the photographs. So the photographs were an organic part of the love scene in some way. Yes, in fact, the idea of the love scene is that in a way, in a way, of changing roles. Cioè, lui si sveglia un po' meno fiducioso rispetto al mondo esterno e lei è un pochino più fiduciosa. E in fondo il gioco tra loro due è anche proprio caratterizzato dalle foto. Le foto sono sostanziali proprio perché lui la seduce parlando e sottolineando aspetti di lei che lei stessa non conosce. Ed è veramente sedutivo questo gioco essere quando c'è qualcuno che ti conosce meglio di quanto tu non conosca te stessa e le dice cose che lei non sapeva. Ed è proprio attraverso le foto che lui riesce, che la seduce e che la porta in questo gioco proprio perché le foto parlano di lei. I would say one other thing here. I love it when I hear Franco speak about all these meanings in my films. But, I mean, I'm grateful that people find these meanings. But, you know, I don't make the films thinking about these meanings, necessarily. I mean, if I find them, I find them. But, you know, I'm on the set trying to have... I have Redford and I have Faye Dunaway. I have a love scene. I have to do it. And I have to find some way to do it. And I can't copy five other love scenes. And, you know, I don't want to rip her clothes off because that's not right. You know, I don't know quite what to do. So I think these photographs have something to do with this love scene because he dissolved something in her by knowing her better than she knew herself in some way. by understanding her from the photographs. So the photographs were a way for me to do the love scene. It's not so profound. I wish it was. I mean, I think that you find the meanings afterwards is what I mean. I don't think the meanings are wrong. It's just that I don't sit down and decide philosophically what I'm going to do as a philosophy. I don't. I shoot the scene instinctively in some way. And then people who are scholars like Franco come and look and they interpret it. And I'm always thrilled when they explain it back to me this way. But for me it's a slightly more practical matter. Well, the one who says that I love to do this. I love to be in this situation with Franco, who explains and shows all these meanings. In effect, I am also grateful. But in reality, I have an approach more instinctive and practical. perché non è che faccio il film pensando a tutti questi significati, a volte li trovo mano a mano che giro sul set, questi emergono, però diciamo che in questo caso mi sono ritrovata col set, con da una parte Robert Redford, dall'altra Faye Dunaway, non volevo, una scena d'amore, da una parte non volevo copiare altre cinque scene d'amore che ho già fatto, non mi sembrava giusto che le si strappassero i vestiti indosso a Faye Dunaway, non era il caso, e quindi in qualche modo le foto sono diventate il centro di questa scena, proprio perché lui scioglie in lei qualcosa, una resistenza a qualcosa, proprio perché la capisce, perché legge nelle foto ciò che lei stessa non riesce nemmeno a esplicitare davvero. Nel venti il significato, forse l'approccio alla scena, così non è così profondo, vorrei che lo fosse, ma i significati vengono successivamente, quindi è un po', mi entusiasma molto dopo quando ci sono queste scene che vengono spiegate, tutti questi significati, è molto piacevole, però più l'approccio non è, dice il regista, si siede e filosoficamente pensa a tutti questi movimenti, no, è più istintivo. I do what I'm told, you know, he cast me in this very evil, mean role, I'm waiting to be cast as the really nice man that I am. But I get cast often in these horrible, horrible, kind of roles, like, you know, not just Eyes Wide Shut, but Husbands and Wives, the Woody Allen film, I was also an idiot in this movie, too. You know, I don't, I don't know, I mean, I don't know why I get cast in these parts, I just opened in a new film last week in the United States, I also play a terrible guy, very bad guy. So, maybe there's something in me that I don't know that these directors see, you know? Devo dire che mi piacerebbe rispondere alla sua domanda, non lo so perché ho fatto questa parte, forse è perché gli attori, gli registi mi vedono, vedono in me qualcosa di cattivo, di, non lo so, perché appunto non è certo la prima volta che recito il ruolo di cattivo, Invece, e sto ancora aspettando la parte da brav'uomo che mi rappresenta, secondo me, sì, ho fatto altre parti orribili, per esempio anche nel film di Woody Allen, Husband e Marito e More, Marito e More, faccio parte una parte di inautentico idiota, e quindi, non lo so, però anche la settimana scorsa, è uscito un film in cui ho recito, e anche lì è uguale, sono sempre un personato che è veramente cattivo. I really want to play the guy that, the really wonderful guy, gets the girl, and the girl falls in love with him, and all this stuff, but I don't, I get to play this horrible, dumb people, and I don't know why, you know? I think it's unfair. Penso che sia veramente ingiusto, proprio perché a me piacerebbe recitare una parte dell'uomo bravo, onesto, meraviglioso, che incontra la ragazza giusta, lei si innamora di lui, di uno felice e contento, invece mi toccano sempre queste parti, di personaggi cattivi, brutti, proprio terribili, ma c'è una grande ingiustizia. As far as Kubrick is concerned, I met Stanley Kubrick on a telephone, in 1972, and I never got off the telephone with him, for 30 years. I met him because I did a film, another film with Redford called, what's called something Corvo Rosso, something. Jeremiah Johnson, Jeremiah Johnson, Jeremiah Johnson, and it has some strange dialogue in it, that's very archaic, it's early American kind of dialogue. And when I asked the studio, who was going to do the dubbing, and the subtitles, I said I was very worried, how are they going to capture this very strange way of speaking? And the head of the studio, this was Warner Brothers, said, well you should talk to Stanley Kubrick about this, because he knows everything technically. So I said, well I can't just look up in the information how to call Stanley Kubrick, you know, and just say hi, you know. So he arranged a meeting, and I spoke to him, and we became telephone friends for years. And he used to send me commercials, Nescafe commercials, because he was fascinated at how few words it took to tell a story. He would send me these commercials, saying, look, look, there's 27 words, and you have this much story in 20 seconds. Let's go. All right. per anni e anni insomma e lui mi mandava questa pubblicità del Nescafe per esempio era proprio una sua, era affascinata una sua ossessione sul fatto che si potesse raccontare una storia di pochi secondi come la pubblicità con pochissime parole mi diceva guarda qui c'è la storia con 27 parole e in 20 secondi c'è tutto so we became friends over the years but I never met him I just spoke to him on the telephone every week I would talk to him and then this film came up and he asked me to should be in it and I was to replace Harvey Keitel who was the original actor and he promised me that it would be two weeks but it was two months but it was a very interesting experience because as a director I never have an opportunity to watch other directors so for me it was very very interesting to work with him and I'm very sorry it was you know his last film he was a fascinating man I can honestly say that I never ended a conversation with him where I wasn't more excited and enthusiastic than when I began the conversation and the conversations were it was very hard to get off the telephone with it if you got on the phone you sometimes were on the phone for two hours love to talk but it was very exciting to talk with it siamo diventati molto amici però non ci siamo mai incontrati in tutto questo tempo stavamo ci telefonavamo una volta a settimana e stavamo anche proprio ore anche a telefono e poi mi chiama e mi dice guarda c'è questo progetto che è questo film i swatchate e dice di per questa parte e dove poi la parte era stata pensata per Harvey Keitel e poi dopo l'è stata data a me e mi ha promesso assolutamente due settimane più lavorazione invece poi sono diventati due mesi ma è stata un'esperienza molto interessante anche proprio perché come regista io non ho mai occasione di vedere altri registi al lavoro e quindi questo mi ha dato una grande possibilità e certo che mi dispiace che questo sia stato il mio ultimo film però devo anche dire che queste lunghe conversazioni che hanno mai finito una conversazione meno entusiasta o eccitati quanto non fosse al limite cioè il mio entusiasmo cresceva perché lui parlava molto mi piaceva moltissimo parlare ma era sempre entusiasmante parlare con con Kubrick no no I said it would be very difficult to do it I didn't say I wouldn't do it ho detto che sarebbe molto difficile farlo oggi non che non lo farebbe yes that's right I mean it the political climate changed after September 11th it made it look more difficult to be as critical as this film is to the CIA it's just not the right time I would have difficulty making the film now I don't I didn't say that I wouldn't want to make it but it would be difficult to get it made today si in effetti è vero dopo l'11 settembre il clima è sicuramente politico è sicuramente cambiato quindi sarebbe più difficile fare un film così critico nei confronti della CIA dello spionaggio e sarebbe difficile trovare i produttori quindi trovare poterlo fare non ho detto però che non avrei voluto farlo ho detto solo che sarebbe stato molto più difficile io penso in some way when you make films always you are projecting yourself in all of the characters it's not just in the men it's in the women too you have to be a little bit of everybody when you make a film so yes there is a great deal of myself not literally but I have to imagine myself being in that situation in order to direct him and get him to move and react in a way that I feel as a director tells the story that I want to tell I don't know how to explain it in any other way than that cioè devo dire che in effetti in ogni film che faccio io proietto me stesso in tutti i personaggi non solo gli uomini ma anche nelle donne proprio perché e in questo personaggio in effetti c'è tanto di me ma non letteralmente proprio perché devo immaginare mi all'interno del ruolo e della situazione di un dato personaggio per poter poi guidare o dirigere l'attore in questo personaggio quello che deve fare cosa non deve fare le espressioni ecco non so come spiegarlo ma è così proprio che io entro nei personaggi believe it or not there was and still is a division in the CIA that reads everything they read everything they read it for two reasons they read it to see if there are leaks they read it to see whether they think ideas have been leaked out and they also read it in order to get ideas you would be surprised at how much attention the government pays to literature and pop culture in terms of finding practical ideas it is it is quite true that those divisions exist I would say I would say that it is a bit difficult to believe I think that even now in the CIA there are some departments that are only in the literature of everything that is published that are only in the literature of everything that is published and they do it 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 for two reasons and they do it and they do it so to see if there is someone who talks and divulge secret in some way and the second reason is to take ideas from the outside that can be useful in fact there is a great attention to literature on the popular culture and just to have practical ideas and to know how things go I don't even know what crisis in Italian cinema is if there is a crisis so it's not really for me to speak about I mean I don't live here I don't know I don't know anything about it a crisis I have no sense of a crisis the cinema everywhere is struggling in America in Europe and everywhere we have a crisis in American cinema too which is a crisis of economics I don't know what the crisis is here whether it's a crisis of economics or what the crisis is but I would say that world cinema is struggling to find the excitement and energy and originality that it had in the 70s and 80s let's say and that's true of American cinema as well I believe that it will be okay it always is it goes through periods where there are crises but it's an art form that's very important to people and it somehow always finds its way even in very bad circumstances I don't know the specifics here I only know the specifics of America we have what we consider a crisis in America too Devo dire che non non so esattamente non vivo qui non sono non so quali siano le specificità della della crisis c'è una crisis del cinema italiano in effetti conosco la mia realtà dice il regista e di sicuro il cinema ovunque è in una fase insomma arranca ed è anche negli Stati Uniti è in cinema in crisi una crisi che noi riteniamo essere economica e non so se queste sono motivazioni della crisi del cinema italiano economico o di altro di altro tipo di sicuro però il cinema mondiale è in cerca deve trovare un'energia l'entusiasmo l'originalità che aveva e che ora non ha più e che forse caratteritava il periodo degli anni 70 80 però penso che poi in realtà il cinema è un'arte che riesce e che è molto importante e che è nel cuore della gente e quindi riesce anche a trovare un modo per radicarsi e per trovare un suo linguaggio comunque ed è anche una crisi che sempre nel cinema è molto ciclica quindi sono delle fasi di stallo e altre invece di grande esemazione Trying to persuade filmmakers to see if they could present an image of America that would reach the sort of anti-American feelings that came to the surface as a result of that attack. Where there was an enormous amount of anti-American feeling that we were made aware of in the States of resentment about a certain kind of imperialism or resentment about the accusations of a lack of understanding of other countries' problems and so on. So there were some meetings in Washington in which filmmakers were called and they discussed with them the idea that this was a critical time in global relations and that the filmmakers ought to try and present a picture of America that would help defuse some of this hostility. I mean, most filmmakers, you know, listen politely, but it's not something you can do as a filmmaker. You can't get involved in propaganda as a filmmaker. That's absurd. I mean, countries have tried this forever and failed at it. Propaganda is a political tool. It's not a tool of popular culture or art in any way. So it wasn't about Afghanistan. It was about presenting an image to the world that was more favorable about Americans in a way. Well, here there was a campaign of disinformations discreta. But, I don't know if there were other studies that, immediately after the 11th of September, have decided to cancel the images of the Tori Gemelle from the film that were released. And that's why the Tori Gemelle would have decided to cancel the images of the Tori Gemelle from the film that they would not have been recorded in the film that they would not have been recorded in the film that they would have been recorded in the film that they would have decided to take it. Per quanto riguarda Hollywood, che molti personaggi di Hollywood sono stati convocati, ci sono stati in riunioni con il governo, non aveva molto a che fare con Afghanistan, però era per un tentativo perché dopo l'attacco del 11 settembre ci si è resi conto negli Stati Uniti che c'erano dei forti sentimenti anti-americani, dei risentimenti per le politiche colonialiste, imperialiste degli Stati Uniti e quindi cercare di in qualche modo presentare una faccia, un volto dell'America un po' più favorevole insomma e per cancellare o almeno tentare di eliminare questi sentimenti rispetto a così contrario agli Stati Uniti. Questo sì, in effetti in realtà quello che è stato, perché stiamo in un momento molto critico, tutti i cineasti convocati, chiunque ha ascoltato attualmente con gentilezza, però chiaramente non ha fatto niente perché i cineasti non hanno niente a che fare con la propaganda, sono anni e anni che la propaganda è uno strumento politico, non hanno niente a che fare con l'arte e quindi la cultura, la cultura popolare, molti ci hanno provato di usare il cinema in questo modo, però non ci sono riusciti, quindi è più un tentativo proprio per rappresentare gli Stati Uniti in maniera più favorevole rispetto agli eventi. No, no, I don't, I mean the genres that I've worked in, in every one of the genres, I've essentially done love stories, so the genres themselves are sort of experiments for me, different worlds in which to place various love stories. The actor that I've worked with most is Redford. I've done seven films with him, more than, more than, you know, I've done with anybody else. The most I've ever done with anybody else might be two films. I did two films with Harrison Ford, I did two films with Burt Lancaster, I did two films with Jane Fonda, I've done seven films with Redford, so I found some sort of rapport with Redford, where we were able to work together over a long period of time. Devo dire che in effetti ho lavorato con tanti generi, però in realtà sono storie d'amore, quindi i generi sono come degli esperimenti o dei mondi diversi dentro ai quali ho raccontato delle storie d'amore. Per quanto riguarda gli attori con cui ho lavorato, beh, sicuro l'attore con cui ho avuto un rapporto molto più lungo, anche esteso nel tempo, è stato con Albert Redford, con lui ho girato sette film, invece, non so, con Harrison Ford due film, con Lancaster 2 e con Jane Fonda 2, quindi con lui è stato proprio un rapporto che è entrato nel tempo. I think it would be a big mistake to change anything in movies, because of 9-11, I mean, I think that, like any major event, like a soup, or like an aroma, it will find its way into films. But it's the same answer I have about propaganda. If you just react like that quickly and make anti-9-11 films, it's absurd. It's like changing the art form, because you want to get a message across, a political message across. I think that's, I think that's a mistake. La risposta è no, non cambierà niente dopo il 11 settembre. Chiaramente è come di fronte a eventi epocali e molto importanti, c'è come una Roma che poi finisce per permeare il cinema o i film, però è la stessa cosa come la propaganda. Cioè la propaganda non ha, cioè se si reagisce all'evento immediatamente e si fanno film, sono anti o contro il 9 di settembre, l'11 di settembre, eccetera, e si si trasforma la forma artistica, che diventa un messaggio politico, sarebbe un errore, non ha niente a che fare. I mean, clearly, American filmmakers will begin to wonder, I certainly have, and I think every American has, what went wrong? Why is this happening? What's the explanation for it? And that thinking will find its way into movies by itself. But if I sat down now and said, I want to make a movie that addresses the tragedy of 9-11, it's too soon. We didn't make, we didn't really make a good film about Vietnam until 10 years after Vietnam was over with. We made some bad films about Vietnam. We made some bad films about Vietnam, but we didn't make a really thoughtful, profound film about it for 10 years. You can't understand things so fast. And you can't understand them so fast and turn them into art in some way. That's a really, that's for television, that's for documentaries or something else, but it's not for, I don't think it's for making serious movies. I don't think that's true. Di sicuro noi, i cineasti americani, come gli americani in generale e me stesso e anch'io, ci si chiede perché questo è avvenuto, si cercano le spiegazioni di questo evento. però non è che io mi siedo e poi decido di fare un film per spiegare, per raccontare questa tragedia, perché è troppo presto. Pensiamo ai film su Vietnam, ci sono come... What are my suggestions to a young director? Don't. I don't have any suggestions. I mean, it's too hard to... I don't know. Film school, people go to film school, people make little films with DVD, with digital video now. There are a lot of things that you could do, but I would presume to give advice. Everybody finds their own way, really. No, I don't have any suggestions. In fact, it's too hard to... Oh, do you leave my car? Like, you see my car? It's not... 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 Yes, go ahead. No, sicuramente ci vuole del tempo per interpretare la realtà e la storia che sta avvenendo. ma una delle cose più sorprendenti e magiche è che è un film che in parte anticipa quello che stava per avvenire in parte lo racconta quasi in diretta ed è uno dei casi più sorprendenti della storia del cinema di capacità di raccontare le sensazioni che si stavano vivendo nelle stesse vite quanto questo è consapevole e quanto è dovuto anche al caso al caso produttivo al well we bought a book the book was called Six Days of the Convert the book was about smuggling heroin it has nothing to do with what we made the film about the book the book had a great premise which was that a man goes to lunch and comes back and everybody is dead in the place that's the only thing I took from the book I sat in a hotel room in New York and we tried to construct a story a plot and we came up and we came up with oil with oil fields it was way before the oil crisis it was way before any of this happened but the day that we shot the last scene in front of the New York Times the headline in the New York Times had to do with a senate investigation committee headed by a man named Senator Church who was investigating the CIA for doing what they called dirty tricks now I don't have any idea how we got there I really don't we were just trying to make up a story but it was very very predictive of what was going to happen both with oil and with what the CIA was doing I honestly don't know how that happened I don't know just I don't know it wasn't because I'm some kind of a genius and I can figure out the future it just was I don't know I don't know how it happened Devo dire che il film è preso come idea da un libro che si chiama I sei giorni del mondo parla del contrabbando di eroina quindi non ha niente a che fare con il film però ha una grandissima introduzione che è quella di questo che dice che c'è questo ticchio che esce per pranzo per la pausa del pranzo e quando arriva al lavoro e quando rientra trova tutti i sacroleghi morti e quindi quest'idea ci è piaciuta moltissimo e allora decidiamo di vedere cosa fare di quest'idea e siamo seduti in un albergo a New York e cominciamo a delineare un po' la trama e quindi sostituiamo la cosa che ci viene in mente è il petrolio i campi di petrolio i porti petroliferi e questo era molto tempo prima della crisi petrolifera e molto tempo prima del si sapesse anche il governo che faceva la CIA però di sicuro quando abbiamo girato l'ultima scena davanti all'edificio del New York Times con lo stesso giorno il giornale è uscito con un titolo che parlava di questa inchiesta parlamentare presieduta da un senatore che è il senatore Church che investigava i comportamenti sporchi della CIA e non so esattamente come noi ci siamo arrivati in effetti la risposta del senatore non lo so però chiaramente qui c'è un gioco di previsioni e nello stesso tempo c'era sul petrolio la CIA tutti questi elementi non sono un genio che legge nel futuro però in qualche modo non so come ci siamo arrivati uno che un謝謝 just remembered is the book had very bad guys like really evil guys that were smuggling drugs and there was something boring to me about this so I was trying very hard to construct the people that were against Redford I was trying to find a way to justify what they were doing because it got too simple if they were just evil he was good and they were evil it was too simple in a way so I was saying what could it possibly be where people would commit these kinds of crimes in the name of something they believed was a good cause and what was important in the very end of the movie Cliff Robertson says to Redford what do you think will happen when the cars don't run and there's no food on the table are you going to be a moralist or are you going to want us to get what we have to get and of course that's what every society does finally you survive when your back is against the wall you do things that you don't do when you have food to eat and you have heat in the house morality changes and so I was trying to push this argument and say how can I construct an argument where it's not just bad guys it's guys who believe they're doing something necessary like most governments do when they do terrible things they usually believe they're doing something constructive and they always have an explanation for it all governments have that so somehow we got to it that way an'altra cosa che mi ricordo è che nel libro i personaggi quelli insomma i cattivi erano veramente cattivi più cattivi non si può ed era a un certo punto questi venti che trabandavano droga insomma era un po' noioso e quindi insomma abbiamo cercavo di creare questi personaggi che erano quindi gli oppositori di Redford trovare delle giustificazioni per spiegare loro perché si comportavano in quel modo cioè di dare delle spiegazioni se no sarebbe spiegare il tutto solo per la cattiveria dei personaggi sarebbe stato troppo semplice cioè che cosa può far sì che le persone compiano dei crimini dei reati di questo tipo nel nome di un bene comune o di un'aspirazione di un bene generale e quindi è questo che ho in effetti alla fine del film il primo che chiede chiede a Redford insomma ma che cosa succede in una situazione in cui le macchine non vanno più e non c'è più cibo sulle tavole allora vuoi fare il moralista dice no e questa è una di quelle domande che si pongono ogni società cioè devi anche quello che devi fare per sopravvivere sicuramente chi si trova con le spalle al muro senza nessuna possibilità senza cibo senza niente ha una morale molto diversa da chi o lui che invece può godere di queste cose ed era questo che in effetti mi interessava nel film cioè proprio quello di non avere dei personaggi solo cattivi ma anche personaggi che si comportano in un certo modo perché credono di fare quello che è necessario fare che viene loro richiesto di cercare questa spiegazione ed è poi quello che succede spesso diciamo io sono stati qui tutta notte però mi sembra che sia tardi ventanotte vi state addormentando ok ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti